e salve a tutti quanti ragazzi benvenuti e bentornati in una nuova live in quella che è ormai la ho successo qualcosa qui da posto o vedo che obs sta ok perfetto stava crasciando bs non so se avete sentito nel caso benvenuti bentornati in un'altra live di elden ring quindicesima live ormai le presentazioni si sprecono abbiamo fatto cose bibilli burubu bibi pazzi bug di biggaba dai andiamo avanti non c'è veramente più nulla da dire ormai se non che forse 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 oggi succederà cosa importante più che altro perché oggi dopo tanto tempo ci sposteremo verso un'altra area in realtà vabbè tanto tempo no perché ci abbiamo mai esatto oggi si fanno progressi in realtà ci abbiamo messo pochissimo a fare kylid però diciamo che più o meno kylid l'avevamo un minimo già vista ecco la prossima area potrebbe essere invece totalmente nuova anche se la mia rotta rotta preferita sarebbe nokron allora dopo tanto tempo neanche tanto esatto esatto sì 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 con te sei stato due live tipo due live e mezzo kylid non mi ricordo scusate allora 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 io comincio anzitutto dobbiamo andare qui alla torre allora ho fatto un po di cosine ho fatto sì ora c'è la torre ho fatto i due lanti qui ho ottenuto un amuleto figo un amuleto tipo avel potentissimo questo qui l'arsenale del grande vaso aumenta il peso del guaggimento massimo dura e va un quarto ecco poi vabbè ho fatto tutto il resto che mi era stato indicato sulla mappa boss di qua boss di la cavalieri notturni di qua cavalieri notturni di la credo di non avere aspetta controllo perché non credo di aver avuto nulla di interessante da vedere però sì diciamo che ho registrato qualcosina tipo questa questo dungeon dove c'erano gli spiriti dei cavalieri di radan dei cavalieri marciascenti che si combattivano tra di loro tra l'altro un ottimo farm di anime vabbè c'era questa merda di nuovo fortunatamente sconfitta per stra anche perché si è incastrata a un certo punto cioè si è bloccata a un certo punto poi vabbè questo boss tremendo non so che che idea è mettere tre cristalliani in una stanza poi vabbè boss della galera eterna abbastanza easy maghetto così e poi assi due cavalieri marciascenti in uno di questi dungeon e basta infatti roba abbastanza semplice fatemi un attimo di nuovo si è bloccata si blocca sempre cosa si è bloccata no che si è bloccato o che si è bloccato fermi ah il mostro radice vabbè vabbè me fa sono cliccato sotto a sì 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 ve lo giuro aspetta ve lo faccio vedere aspetta dove è? dove la registra ecco la quale vedete allora dopo cioè dopo un dopo il primo ah merda è vero qui avevo registrato per errore di più ah vedete dopo no questo è il secondo visceral dove si sblocca però vedete quindi faccio il primo visceral è stato preso frame perfect e si blocca, si ferma guarda, ora non fa più niente ah, bellissimo è comodissima questa cosa veramente, molto comoda e poi appunto dovrò attendere al momento in cui adesso dovrei riuscire a fare tipo il secondo visual a breve, poi si sblocca tranquillamente bello, molto comodo, molto comodo comunque fatemi un attimo cancellare queste robe allora, che tanto sono poco rilevanti ok, tanto guardate che bello lo screenshot di un trofeo di Genshin Impact molto bello una schermata nera, allora fatemi cancellare anche queste altre cose scusate se faccio pulizia in questo momento ma meglio ora che quando non ho voglia ecco qua, perfetto, in realtà potrei cancellare anche questi due, ma però non lo faccio ok, adesso quindi, dicevamo dobbiamo leggere ancora un paio di cosine ossia la la, la, la ah, vabbè, ci sono anche alcune ceneriche che ho ottenuto tipo questa Oga, Cavaliere di Manto Rosso membro più anziano dei Cavaliere di Manto Rosso Oga studiò le tecniche di manipolazione della gravità insieme a Radan può scatenare una pioggia di frecce gravitazionale risposta a un grido di guerra ma solo una volta e poi ci sono anche i soldati di Radan carino ah, poi c'era ecco, c'era anche Yuges o Fugues Fugues di Selle era venuto a studiare l'epitome di Haima all'Accademia divenendo un mago guerriero gli studiati di Haima tentavano di sedare i conflitti con l'uso del cannone del martelletto si sa perché questo è un'insana passione insana potenza va bene dato tre Roby qui quasi quattro ecco la runa mi serve la runa di Radan che però non vedo qui adesso che ci penso perché dove cazzo è la runa di Radan? dov'è la runa? weird non l'ho droppata plot twist l'hai persa non pensi se è possibile ah no, è vero ma si deve no, non si deve raccogliere no dov'è la runa di Radan? perché mi ricordo che ho droppato delle cose quando ho sconfitto Radan e una era la sua rimembranza che vabbè leggiamo adesso perché tanto almeno bug rimembranza di Radan il figlio del flagello celeste scolpita nell'albero madre il potere è cracchiuto il generale del leone rosso era in grado di controllare la gravità una pratica appresa a selle e in gioventù tutto pur di non abbandonare lo smunto destriero che amava sopra ogni cosa ecco perché stava sul cavallino non è vero che se è un bug devi ricominciare tutto da capo tranquilli ragazzi si trova la soluzione ah eccola qua non si sa perché è qui però priva di benedizione ma nel senso che si deve ancora sbloccare immagino si immagino che si deve ancora sbloccare ah ce l'ho ce l'ho comunque era solo in un luogo diverso vabbè priva di benedizione ma non per molto perché siamo qui davanti mi gasa sempre ogni volta questa cosa non so perché comunque sono contento perché a quanto pare a meno che non ho esplorato male qui a Kylid non c'era nessun uccello della morte e sono molto grato di questa cosa mamma mia draghi e aspetta che muoio eh ok facile glub ok minchia ok 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 beh non male ok non male rimane sempre il punto di come devo entrarci qui perché c'è un uccello in questo come c'è un uccello non è possibile ma lo sono perso come ho fatto a perdermelo eppure la mappa l'ho seguita eh come è fatta a non affrontare non lo so la mappa l'ho seguita quindi mi sembra strano il 9 vado a controllare dov'è eccolo qua il 9 il 9 ah ma quindi quello era l'uccello perché io ci sono andato lì ma ho trovato un cavaliere notturno e ho pensato fosse quello invece mi sa che era un uccello ahhh che palle ma da cazzo ma come si sa come si arriva in questa torre cioè ho trovato un cavaliere notturno lì vicino ho detto vabbè sarà lui invece mi sa che era l'uccello che è due coglioni vabbè eeeh vorrei prima capire come entrare nella torre magari perché non sto capendo molto conosciamo io ragazzi da che parte si fa qui sono molto confuso cosa è che parte che parte Ah ma dai Ma pensate Non avrei mai capito No Fermi Ragazzi comunque incredibile Per una volta che vi ho fatto una domanda Leggiti su dove andare Non me l'avete detto Me l'avete fatto scoprire da solo Come è possibile Perché non lo fate quando davvero serve Perché non parlate Nel senso non mi consigliate le cose Quando ve le chiedo Poi me le consigliate Quando non ve le sto chiedendo Pazzesco Carino però Si evita di creare un pattern fisso Un altro elmo Vabbè Grazie eh Sentivo proprio il bisogno di questi elmi Per carità in realtà un elmo più carino Ne avrei bisogno perché Non mi dispiacerebbe averne uno Però Adesso non troverò oggetto per davvero Qui allora non ci vado Dai Se me ne frego Saltare Direi di no O forse si Direi di no Allora Ma quindi vuol dire che Però se effettivamente Ciò vuol dire che Vuol dire che la runa di re Nal era già attiva Cioè noi abbiamo ritevuto Eh vabbè Abbiamo ottenuto una runa maggiore Con già la benedizione attiva E quindi la torre di re Di riurni a cosa serve Questo è strano Questo è molto strano Forse perché re Nal era viva Possibile No Non penso siano collegati ai lord ancestrali Boh Non ho idea Troppo in alto Ma sì Cosa saranno mai un po' di vertigini Ben fatto Davanti servirà cavallo Ma serio Ovviamente con il cavallo Dovrei riuscire a passare Però E però poi che si va Casino però sta roba Posso dire che è un po' un casino Penso di quello di E mo Ah qui qui Una scala Let's go Non so se poi a terra Cioè o comunque in fondo ci fosse qualcosa Onestamente Eh forse potremmo controllare Qui in là però Vediamo un po' Non mi ispira molto a controllare Le varie zone questa roba Runa dei numi È la massima runa Eh sì eh Si ritiene che i numi Non siano originari Dell'interregno E che appartengono Alla medesima stirpe Della regina amarica Eh Sai quanto ne dà Ah ok Pensavo Faccio questo tipo Da salto Ecco qui C'è bisogno di fare il salto Minchia che stronzi Comunque Mamma mia Mettono Certo parkour Assurdo Se lo possono permettere A sto giro Quindi ci sta Mi piace l'idea Però bastardi Bravi bravi Altro che mirror sage Buona ragazzi Provate a rigiocare Mirror sage Ma comunque ragazzi Oggi Non ve ne frega un cazzo Forse Però fa sculato In modo incredibile Perché Sì sì Era fatto molto male Chiaro Ma perché il comando Del salto in sé per sé Era fatto male Quindi Oggi ragazzi Ho sculato in modo incredibile Perché Avevo Ho pullato soltanto due volte In Genshin E ho pullato un altro personaggio Cioè Il più forte del mondo Non so come ho fatto Ad avere tutto quel culo Ne avevo appena pullato uno Praticamente Ne ho pullato subito un altro Potentissimo Cioè non potentissimo Un altro personaggio potentissimo Nel senso Un altro personaggio Ero tipo Come Pog Cioè era Momento Mega Pog Ci ho giocato 30 minuti Vi giuro ragazzi Genshin Impact Mi sta dando Le soddisfazioni Tocca fare la top Delle Wip Di Genshin Vabbè Non è facile Per niente Ti dirò Non è facile Per niente Cazzo c'è Qui di così forte Chi è Chi è Incazzato Fino a qualche giorno fa Ti avrei detto Boh Lisa Poi Ho pullato Ho pullato Fischl E ti avrei detto Fischl Ora ho pullato Sara E ti direi Sara Nel senso cambia Di giorno in giorno Non c'è una Top ben definita Allora Se pullo Eula Sarà Eula Cioè è tutto così Insomma Si va Si va così Step by step Ho scoperto Che hanno messo Lui Cos'è quello Ah ok Ah hanno messo L'emotro del vaso Ah carino Io questo luogo Continuo a non piacermi Per niente Per come Per la sua conformazione E ora cosa faccio Posso andare lì Poi mantiene la calma Madonna Pazzi Totalmente pazzi Giù Eh ci andrò giù ma Prova a saltare E' un attimo E' un attimo E' un attimo Jack and Dexter Questa cosa qui Questa è La cittadella di Colle Maya Nel primo Jack and Dexter Bellissimo ragazzi Gioco più bello del mondo Vabbè Arrivederci Io non ci torno Da voi Quindi State pure buoni lì Se volete Venire con me Fate pure Ma non so Se mi riuscite a seguire Allora Ora E' dura E' dura Ok Nice Ok Nice Mamma Mau Ok Hapaezza Ok 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 Scusate che Esclamazioni per Incoraggiarmi ad andare bene Guarda che mettono quelli con la lancia apposta Mamma mia Quanto vi odio Quando fate così Quanto vi odio Guarda quanta gente c'è morta Poi qui per questa cosa Sono delle vittime Voi ridete sulle vittime Voi ridete sulle vittime Se c'è un oggetto di qua Ma non penso che ci sia Non che abbia molta voglia A sfruttare un luogo del genere Onestamente Poi ancora non c'è niente E poi tengo lo scudo alzato Non so perché E' come se mi garantisse più protezione Tenere appunto lo scudo alzato E' tipo lo shift di minecraft Per camminare sulle Sui bordi Qualche motivo mi dà sicurezza Ok No 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 Mamma mia Tazzo Ok Allora 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 È il momento di trattamento Allora Scalina Ci porta questa scala Quanto è lunga? What a thrill With darkness and Ah niente Finita Ok Ah ok Shortcut Faffanculo Sono cascato Snake eater Così abbiamo finito No sta buono Dai ti prego Dimmi che qualcuno fa una piccola riferimento Guarda Scorciatoia Poi avanti i porti Niente Nessuno fa riferimento Ok Peccato Oh ma quanta gente è morta No sta forse ho capito Che cazzo sei te Dio chi è No Dio del male Aha Si esatto Ti butti giù Mori pure Certo Infatti è per quello che ho fatto Ah ma è un monaco del fuoco Però con l'essere schienato Tutto è nero Capito Il fuoco bianco Il fuoco nero in teoria Sono le fiamme di contro ad essere bianche In quanto Sì ovviamente Il fuoco Sì ovviamente Cioè perché è la solita regola Delle luci nere La solita regola Delle luci nere Che hanno i bordi bianchi Perché sono Hanno un colore opposto Rispetto al colore naturale Quindi La ringrazio eh Gentilissimo Ma Non serviva Ma Nemmeno questo serviva Però Comunque Apprezzo e contributo Ti scompigerò A sciocco Non credi di avere a che fare Patetico No eh no Perché quello lì è vivo Ehi Cos'è più intelligente Dell'altro Preso le scale Possibile eh Possibilissimo E poi Aia E danno lui Tra l'altro Porca troia Let's go Altro Bello E io la sicurezza In breve Non ci credo Morte Ma non mi aspettavo vita Non mi aspettavo vita Vabbè Pazzesco Oh 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 Che è Quanto veloce sta scendendo Oddio Iniscia il Dio Oddio Non c'è strano Nulla Iniscia il Dio Però mi è venuto in mente Puto dirlo Ragazzi Lasciate perdere Il mio senso dell'umorismo È rotto Sono uno zoomer di merda E c'è un'altra Grazia qui Ma dove cazzo Stiamo andando Ma cos'è sto luogo Torre di Nicali Semi interrato Perché che scrive Non mi aspettavo Dove siamo Nel 2800 Te la senti Ma si dai Un altro Ma la leggera No ma Ma c'è un boss Nella torre Vabbè Scusa Ma guarda quanto è cazzato Oddio C'è una barba Cazzatissimo Vabbè Ho capito Devo utilizzare il metodo Cheese Che non è cheese Però vabbè È un metodo Che mi piace utilizzare Contro nemici Che mi danno fastidio Aspetta eh Che riesco ad utilizzarlo Che dipende Dipende da nemico a nemico Ok riesco ad utilizzarlo Questo è il metodo No merda Ah ok Madonna mi può fermare Ma non per sempre Che f***o Monaco della nera fiamma Infatti sono monaci Delle fiamme Allora I monaci dalla nera fiamma Ammariati da un potere letale Persino per gli dèi Tradirono la causa E abbandonano il loro posto di guardia Non è mai facile Resistere al fascino Del proibito Wow HP Ne hai tanti Ok Non penso sia da affrontare ora Lui Per il numero di HP E il numero E i danni che fa Sinceramente Mi sembra molto più avanzato Come avversario Ma Ci proveremo comunque Ciao Ciao ne E che cazzo Ho bisogno dello scudo E che palle Che poi c'è la fiamma Nera Come al solito Eh dai cazzo Eh vabbè Vabbè Ok Vabbè Timate perfettamente Con il Con il momento in cui mi curo Ok Merda Va bene Ah no Che non ha così tanta vita In realtà Non è vero Stavo sbagliando Vabbè 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 Hitbox Di quel fuoco Senza senso Eh da Credo si possa fare Comunque A me questo preoccupa Perché fa pensare Che ci sia un'altra area Qua sotto Che magari va Vedendo Cioè va di sotto C'è tutta un'altra zona Di qua Un po' paura Per questa cosa qui Onestamente Molta paura Altro che un po' Ne speriamo di nuovo Sinceramente Eh dai Cazzo Quindi faccio Veramente Un cazzo Mamma mia Speriamo che non abbia Una seconda fase Di qualche tipo Perché Ho anche una seconda fase Di schiota Che magari Seconda fase Ce la può pure avere Ma Goto Non mi ha colpito Beh Immaginavo fosse Un'esplosione Vabbè Oh Cosa Vabbè Vabbè Un'esplosione 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 a due che fallo ogni volta in chiave c'è l'automatica proprio con la mossa ogni volta oh cazzo ok si guarda lo fa sempre la fiamma appena ti curi che bastardo merda 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 uuuu nice no oh ma non ti stanni più bastardo ahhh qua è stannato il minimo novantaquattromila novantaquattromila ha mangiato il fotogra gam 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 è vero novantaquattromila ma raga ma ha dato più ha dato più erro nel lui che la seguace della lama nera se questo non era per niente da affrontare adesso è uno dei boss migliori è abbastanza figo da semplice ma figo semplice di intendere la struttura gli apostoli un tempo dediti a servire la morte fatidica furono custodi della nera fiamma letale all'idee ma quando si arresero a malichet la lama nera persero ogni controllo su quel miserabile potere wow ok evviva nemico forte vabbè oh oh spadone decida già immagino i fan degli spadoni arrapati alla merda perché tanto spade dritte non te ne danno mai vero scala su fede che strano spada sacra della regina dagli occhi crepuscolari che guidava gli apostoli sacri terma prima della soddisfatta per mano di malichet la sua lamarde della nera fiamma prendita le apostole ok se non sono presente molto è perché sto studiando ok ok lo spadone è diverso da quello normale ah si ok vediamo addirittura bello che tristezza senza senza roba madonna più senza come si chiama senza competenza che è che ok viene l'attacco di mezz'ora la sua buon'arte è la lama mortale di Sekiro è vero infatti mi stava ricordando qualcosa ecco cos'era evidentemente bello bello figo e viva Iera vabbè dove vai tu c'era qualcosa attorno di là mi sembra di no ora tocca fare l'ultimo cielo di merda no no aspetta prima di tutto dobbiamo salire sopra perché siamo andati sotto ma non siamo stati sopra anche con la fiamma nera da due slash con la fiammata ok mi sembra non ci fosse nient'altro qui vero se non ricordo male non c'era nulla no infatti forse c'è qualcosa lì oh c'è qualcosa lì no no non c'è no aiuto testa o testa vabbè wow bello oddio basta andare verso l'alto dal falò in mezzo per arrivare in cima io lo so infatti c'era la scalinata in alto lo so per quello dico dobbiamo ancora andare in cima non c'è non dobbiamo ancora fare l'uccello allora scusa allora addirittura questo è l'ingresso minchia pensavo che mi portasse vabbè sì oddio un po' troppo lontano ok ho pensato un po' comunque che il primo uccello della morte l'abbiamo trovato a caso vi rendete conto che io se vabbè me l'avreste comunque detto voi però in un certo senso ho quasi non incontrato per nulla uccelli della morte nel senso se nessuno me l'avesse mai detto non avrei probabilmente mai incontrato uccelli della morte nella mia run che di notte non mi capita quasi mai di avere le robe di notte quindi sì sono belli veramente belli infatti non non si può non posso più vivere senza ah una porta quindi no no ah ok un altro ascensore come quelli vabbè cos'è stata il VR magari no purtroppo no l'ho provato una sola volta il VR durante un'alternanza a scuola lavoro poi basta però è fighissimo cioè io per dire ci giocherai tantissimo tipo Resident Evil 7 in VR niente che un play di Half-Life Alyx beh per quello non serve VR quello serve proprio il robot specifico non serve nemmeno VR generico e viva confine cos'è quella zona che abbiamo davanti non lo sappiamo vista splendida beh una runa classica per una volta ma come è così alto scusatemi ma io rischio di morire no ok è normalissimo l'audio in teoria mi sa che so io che sono un sordo oggi perché lo sento tutto più alto cosa cambia da questo non capisco vabbè Radhan era uno dei figli di Renala e Radagon che divennero semidee degli astri dopo l'union di quest'ultimo con la regina Marika la runa maggiore brucia ardentemente per opporsi all'avanzare inesorabile della marcescenza scarlatta ah ok ah wow ok quindi ok wow capisco io comunque credo di aver capito cioè credo che mi abbia detto un mio amico come funzionano queste rune ma sinceramente non l'avrei mai capito da solo personalmente cioè in teoria eh lo posso fare anche ora perché tanto non c'è pericolo in teoria bisogna utilizzare queste sette runiche quindi se io con la runa di Godric la runa maggiore insomma si di Godric è giusto lo utilizzo questa esatto ora è attiva cazzo a saperlo prima e a quanto ho capito a quanto ho capito a quanto mi è stato detto però non ne sono convinto a quanto mi è stato detto dura fino alla morte questa cosa qui ciò vuol dire che è esatto vedi che allora non l'avevi capito nemmeno tu perché è veramente strana come cosa però sì le salette runiche sono oggetti importantissimi a questo proposito guarda quanti cazzo di oggetti possiamo fare non credo si possano far craftare almeno per ora e infatti di quanta roba ci ha aumentato di preciso perché incrementa tutti gli attributi è tanta roba quindi dico porca troia non riesco mai a trovare il menù giusto cinque livelli ogni cosa aspetta cosa cioè tu puoi fare anche se solo per un per una per una morte diciamo forse anche meno non lo so non ho ne ho idea onestamente puoi farti praticamente il pari di cos'è 6 sono 8 caratteristiche si 8 sono 40 livelli dato che non aumentano tutte esatto cioè noi adesso siamo a livello 130 praticamente a livello di statistiche vi rendete conto ma ragazzi ma che cazzo no scusate ho bisogno però di leggere perché incalento leggermente pv massimi si dice che sia l'arco inferiore della nera necessaria però non parla della loro durata è quello il punto mettici in mezzo gli amuleti vari come entro le statistiche esatto cioè puoi diventare devastante scusatemi ma su rune 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 maggiore rune maggiore non c'è niente non ci sono tutorial schivate vi è stato di mare morte rocca della tavola viaggi veloci sulla mappa sulla guida della grazia dipinto mappa bozz niente non ci sono porca troia ok va bene però non ce ne sono così tante di possibilità di utilizzarle perché credo che appunto le sette rune che siano appositamente fatte limitate ah le abbiamo persi i bonus no vedete ragazzi le abbiamo ancora ma porca troia ok non so allora voglio fare un attimo un salto alla tavola rotonda perché voglio vedere se c'è qualcosa di nuovo Gideon si è senza senso chi sarà il prossimo Renala Radan Godric Ricard e Morgoth mancano credo sia Ricard il prossimo cioè ipoteticamente se andassimo a Villa Vulcano credo che possa essere vabbè non importa è una cosa devastante cioè certo finché non moriamo però ah ma vabbè dai ma così no ma abbiamo frainteso tutto questo gioco per tutto questo tempo mi stai dicendo questo abbiamo frainteso questo videogioco per così tanto tempo lo abbiamo creduto così così difficile così arduo e impegnativo quando c'erano queste cose no ecco non mi ricordavo chi era di preciso perché hai qualcosa d'altro da dire figurati no comunque non voglio andare alla Villa l'ho detto vorrei andare verso Nocron quindi onestamente perché sembra che l'abbiamo sbloccata quindi vorrei andare verso Nocron lui deve attivarlo con cose strane che non ho capito sinceramente ho capito no Roger ancora così vabbè credo non sia cambiato nulla comunque onestamente vabbè andiamo a affrontare l'uccello Archwots andiamo a affrontare l'uccello Archwots sai dove andare per Nocron tornerò a Siofra si vedrà non importa se devo un po' esplorare oh c'è un oggetto che non ho raccolto lì ah vabbè sarà una di quelle che si chiamano le freccine per quelle lì che ti ripristinano i PA esatto aspettate un secondo ma quello non c'era prima quello non c'era per niente prima ed è a sepoltride eh appunto esatto perché infatti è nella zona di tetrobosco wow ok sinceramente non capisco perché hanno dovuto mettere i midboss solo di notte se poi sono sempre gli stessi tre è morta la gravità è a tetrobosco ok che figata c'è proprio timing madonna ragazzi che timing figata ok comunque sì nemmeno io l'ho capito diciamo a me la cosa che alcuni boss apparissero di notte mi piace molto ma effettivamente mettere gli stessi e basta oh dove cazzo è la grazia dov'è vabbè introvabile la grazia in sto luogo dove dove cazzo mi sono vabbè vaffanculo mi si trasporto di nuovo la roba è risultata la stella schiantata dopo aver ucciso il generale sì 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 l'ho capito l'ho capito per dire ti stanno palesando la via sì 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 ma io ero intenzionato a scendere a sto punto meno male che non sono sceso sono venuto qua forse dovremmo dire grazie al fatto che questo uccello sia ancora vivo perché non avremmo potuto vedere questa cosa figa bello bello però veramente figa come cosa vedete il prezzo del la cosa preziosa del viaggio è anche quella cioè lo scoprire queste cose queste cose molto semplici incidentali alle volte ma che fanno scoprire queste cose piuttosto che farselo dire basta farselo dire ok guarda adesso devi andare lì sennò te l'avrei detto io non hai capito capite perché ragazzi sono sempre un sostenitore del ditemi il meno possibile perché anche le cose più semplici per me sono un buon modo di vivere un'avventura e il denig alla fine è questo non è bene non è male è un'avventura da vivere ora sperando che non si aggri anche con gli uccelli perché se no è la figa ah no no ma è uno di quelli potenziati vabbè stiamo per vabbè aspettate a posto vabbè dai stiamo per finire stiamo per finire la nostra luna maggiore appena equipaggiata bella felice vabbè dai è stato bello è stato molto bello ma dio cristo dio quanto li odio vabbè ai 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 vabbè 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 Grazie a tutti. Eccoci qua. Vabbè. Bellissima mossa. Sì sì adesso faccio danni ovviamente. Vabbè ma penso sia lui in realtà non troppo resistente. In realtà potrei provare a equipaggiare di nuovo la runa perché onestamente me la vorrei provare a fare... Ah giusto che dovrei fare i tornei o no. Vorrei provare a fare un po' di strada con quella runa sinceramente perché secondo me... Possiamo andare avanti così. Per tutto il gioco tipo. Ovviamente non mi aspetto di sopravvivere fino alla fine del gioco però... Comunque ne abbiamo una ventina di rune aure ormai quindi... No come che si? Ah no. Sette runiche. Quindi insomma. Allora voglio prima vedere... Lo sconfiggiamo senza perché sennò... Cioè voglio evitare di sprecarle ecco. Però quando mi sento pronto... Quindi possiamo dire in qualche modo che sono le figi umane no? Comunque sia le braci ecco di... Le umanità di... Di Elden Ring no? Perché alla fine... Ti sblocca nel tuo vero potenziale. Anche se ovviamente qui è un concetto abbastanza diverso. Perché questi sono veri e propri buff. Non si tratta nemmeno di vero potenziale. Però... È interessante in realtà. Oltre che in realtà... Ma basta però dire in realtà ogni cosa. Dio Cristo. Comincia a parlare italiano per piacere. Anziché parlare... Come Mika X Factor. Un paragone... Aia! Ok no. Facevo molti più danni poco fa. Facevo molti più danni poco fa. Benissimo. Vabbè hai rotto i coglioni dai. Oh Gesù. No, 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 no. Eh, questa rama. Ah! Io non la posso riconoscere però se ha malapena lo vedo. Quel ramo è stato un fratello. Bello. È vero però. Non la riconosco però è quella mossa se non la vedo. Dio Cristo. Ha parato ogni cosa. Sì, sì, sì. Madonna ragazzi. Mi sono proprio rotto i coglioni di affrontare questi uccelli della morte sinceramente. Sono proprio i peggiori nemici che potessero uscire da Elden Ring. Ve lo giuro. Non esiste nulla di peggio. Cioè non esiste nulla di peggio. Vabbè esistono cose peggiori. Però porca puttana. Rimetterli così tanto frequentemente. Ma porca la puttana troia. Che fastidio. Dai, si è già passata un'ora di live. Non ci posso credere. Non abbiamo fatto un cazzo ragazzi. Ma come hanno fatto? Come è fatto a già passare un'ora? Dove smettere questo gioco di essere prolisso. Gioco perfetto per Sabaku. Metterà 72 episodi a finire il primo Legacy Dungeon Sabaku così. Dove è? Perché se non arrivo io... Eh vabbè. Fa tu. Che c***o adesso mi raggiungi te. Oggi vabbè. Sì, sono 10 anni. Quindi sono senso in un certo... Ah ok, ok. Ma porca troia. Vaffanculo. Oh, vaffanculo. Quanto dà? Quanto darà adesso secondo voi? 15... 15.000 rune! Questa merda! Tizzatoio della morte! Sabaku aveva appena finito il primo Legacy Dungeon perché ha voluto farsi uccidere in 50 modi diversi dal primo soldato di Godric per la lore. Eh 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 eh. Esatto. Eh eh eh. Beh. Eh eh eh. Cos'è poi? Che c***o di armatore beh? Sera tizzatoio, scusami. Accendino praticamente. Cos'è? Dove c***o è? Vabbè non lo trovo. No vi giuro eh. Non lo trovo. Ah eccolo! Ah è una spadona! Ah è una spadona. Clava. Ah eh. Padone va. Paco è un genio. Te lo giuro. È un'abilità unica nel prolungare i video in modo assurdo. Sì sì sì. Madonna mia ma... È un po' pazzesco eh. Io mi ricordo una volta stava facendo la blind run di... dei DLC di Resident Evil 7. Guarda! Un... Un singolo... Solo per quello stava ma non guarderò i suoi video. E vabbè. Guarda! Una singola tipo... Se non sbaglio cos'era? Una... Boh un cubetto. Una palla che si sposta. Comincia a fare un discorso. Che dura almeno dieci minuti. Perché... Voi ho... Lui completamente pazzo con l'uomo. Completamente pazzo. Riesce a parlare per ore per stronzate. Sì sì sì. Ma poi c'è... Sono discorsi comunque interessanti. Non è che... Non è che dici vabbè sta parlando per riempire. No no. Non sta parlando perché... Mi è venuta sta cosa in mente. La devi dire. Basta. Ok gente a cui viaggia a cui me vengono due coglioni così purtroppo. A me... A me fa impazzire. Assolutamente. Tabaco è uno... È uno dei creator che più... Ammiro in tutti i modi. Assolutamente. Eh... Oltre che per la sua incredibile... Mi ricordo mai come si chiama in italiano. Però vabbè. Efficienza. Efficienza nel fare le cose. Ragazzi perché non siete pazienti semplicemente. Cioè... Posto un attimo delle persone pazienti. Non lo sto dicendo per insultare. Però è così. Cioè di solito la gente a cui non piace Sabaco sono persone poco pazienti. Già le landi e Kingdom Hearts mi sono piaciute di più. Lì si... Lì però anche lì si ferma eh. Molte volte si fermava anche quando non doveva quindi... Ho bisogno di... Cosa stavo cercando? Ah sì la setta runica è cosa stavo cercando. Affanculo. No. Via. Andiamo in giro così. Andiamo in giro così per ora. Allora, allora. Quindi uccello della morte l'abbiamo fatto. Presa la cacca. Andiamo a Tetrobosco. Boh già andiamo qui. Margini Tetrobosco. 300.000 ore di video dove parla di Isaac. Ma non è vero. Non l'ha mai fatto. Anzi in realtà se ti riferisci alla serie di Isaac. Sono proprio serie in cui non si ferma mai. Dove semplicemente... Noi penso che non mi ci prende l'attenzione riesco a seguire un discorso di più di 10 minuti. Non ne ho percolato l'unico giorno. No ma guarda. Sono abbastanza convinto che anch'io ho un po' di disturbi dell'attenzione per alcune cose. Però Stavago mi interessa. Quindi... Quindi lo seguo volentieri cioè. Non lo so però eh. Non ne sono convinto. E comunque... No guarda Isaac in realtà è proprio uno di quei video dove... Dove non dice un cazzo. Cioè nel senso... Si gioca semplicemente. Cioè va avanti nella run. Io mi sono visto l'intero spirito dell'arcade. Poi purtroppo ho perso un po' le strasci. Perché se cominci a perdere gli episodi in giro non li trovi più il tempo per guardarli. Però... Li ho visti tutti quanti. Io ho i... 150 episodi dello spirito dell'arcade. Non si fermava mica eh. Schianto a terra. Bello. Non si fermava mica assolutamente. Semplicemente lì che... Giocava. E le run durano quello in The Bandico of Isaac. E soprattutto il completismo richiede quello. Quindi ora devo trovare l'entrata. Perché... Strano ma vero da qui... Ho parlato a casa perché non ho guardato i suoi video come ho già detto. Vabbè. Qua questo ovviamente si mischia comunque una cura eccezionale. Ecco secondo me... Per quelli già un po' più... Ehm... Come dire... Meno... Che meno vogliono... Un discorso super logoroico e cose. Uno degli... Nello spirito dell'arcade l'ha finito oppure solo sospeso. No no. Lo sta continuando adesso con Repentance. Il prima... La prima serie. La seconda che è quella di su Ritorno l'ha finita invece. Che dura molto meno. Vabbè saranno tipo 20 episodi se non erro. Ehm... Comunque appunto... Ehm... Dice... Minchia. Qui si è creata una voragine gigantesca. Ecco perché era tutto vuoto questo punto qui. Ehm... Comunque appunto dicevo... Il... Ehm... Come si dice? Il fatto è che ogni suo video accura e secondo me ecco... Una buona serie per chi magari non vuole discorsi... E... E' una serie in realtà in cui fa molti discorsi. C'è lo spirito del fallo. Gli spiriti del fallo sono molto belli. Perché c'è lui che racconta aneddoti di cose. Esperienze sue con robe. Mentre gioca. Ma il gioco è un sottofondo. E secondo me è molto carino. Infatti... Ci sono stati diversi episodi dello spirito del fallo. Che io mi sono riguardato. Perché io... Non ho tipo... Mai... Dove finirò mai? Ehm... Non ho mai guard... Non ho mai riguardato una serie di Sabaku. Assolutamente. Cioè perché... Va bene tutto ma non avrei mai il tempo di riguardare una serie di Sabaku. Ma... Ehm... Alcuni episodi dello spirito del fallo me li sono riguardati volentieri. O comunque sia me li sono riascoltati volentieri. Perché... Non ho chiacchiere così. E... Sono molto molto carini secondo me. Da riascoltare. Guardi secondo me sono tra i migliori video... Che... Che ha fatto. Cioè io mi ricordo per con particolare... Affetto dello spirito del fallo 2 su Dark Souls 2 Scholar. E' stato veramente bello. Lo spirito... Poi c'è lui che trova Giratina Shiny facendo impazzire... Giratina. Shiny facendo impazzire di Saito. Dai su indovina. L'ho detto! No, Kron. E avanti Nido. Opla. Aie. Dai ragazzi. Oh. Ok. Paura che mi buttino giù... Mi buttino giù in mezzo a un boss subito. Però di no... Ah scusi. Luna Aurea. Comunque ci sta ragazzi. Non vi preoccupate. L'importante è sempre portare rispetto. Perché mi dà un fastidio molto con le persone che roppono le palle a Sabato. Beh se non è fatto per te... Nel senso... Va benissimo così. Basta che non rompi il cazzo. Beh. Direi che mi aspettavo un luogo un po' più... Un po' meno stretto diciamo. Tutto molto soffocato qui. Per me è sempre quello. L'importante... In tutto è sempre quello. L'importante non è se... Se i tuoi gusti condividono i miei... Cioè se condividi i miei gusti o no. L'importante è se rispetti i miei gusti o no. O comunque se hai il modo in cui... Eh... Hai opinioni... Hai la tua... Hai i tuoi gusti. Vabbè ma l'abbiamo già fatto questo discorso. Non c'ho voglia di dirlo di nuovo. Anche perché è un po' ripetitivo. Quelli lì sono vivi. Ok. E' olio. E' uno slime. Credo di riconoscervi. Credo di riconoscervi. Voi siete le falange di Demon's Souls. Senza lo scudo però. Avete lo stesso moveset. Non mi inganna... Sì siete voi. Siete voi. Siete le falange di Demon's Souls. Ok. Carino. Che quando tu parli di piedi. Disrespect moment. Esatto ragazzi. Cioè quello per esempio è una cosa che io non capirò mai. Perché uno deve mancare di rispetto per una roba. Più avanti perdita di sangue fa molto video. Però vabbè. Ah ragazzi se non riuscite a cavarvela contro le falange siete proprio scarsi eh. Fatevi dire questo. Ma guarda quanti sono morti. Ma non si può fare sta cosa. Ma come? Tutte le cose potrebbero riciclare la Demon's Souls. Lacrima d'argento. Un'altra setta? Vabbè. Come se ci servisse insomma. C'è una grazia vicina o è un insettino? Vabbè è meglio se non entriamo comunque nel merito delle cose più sessuali. Diciamo che lì c'è tanto da dire e mi piace molto parlare. Ma non voglio che il mio Twitch diventi la sede dove se ne parla. Almeno non ora. Non in queste live così. Voglio che siano un po' più come dire sobri ecco. Posso solo dirvi che sono molto aperto mentalmente. Ma chi mi segue? Ma c'è ma chi mi conosce in privato? Lo sa. Perché lì ne parlo liberamente. Lo spirito dell'erotismo dei piedi. No, non funziona. Non gira tutto attorno a quello. Non è vero. È una stronzata. È solo la moda del momento. Diciamo così. È solo il momento. Ma non è che gira tutto attorno a quello. La mia... Attenzione. Persona patetica. Scusa. Allora. Mi sa che ho già perso qualcosa. Perché... No, oddio. Forse no. No, no. Forse no. Comunque sì. Sono un grande fan dell'erotismo. Infatti io in realtà vi dirò. Ma dato che ho scritto alcune storie in vita mia. Cioè ho scritto alcune robe in vita mia. Io prima o poi avrei sempre voluto scrivere. Ma non so se mai lo farò a sto punto. Avrei sempre voluto scrivere una storia dove illustravo una scena erotica. Perché mi è sempre piaciuto l'erotismo. Molto, molto. Alcune cose posso condividerle con te. Che cosa vuol dire? Cioè... Immagino... Vabbè. Mi è sempre piaciuto molto l'arte dell'erotismo. Quindi... A livello anche proprio filosofico. Anche perché è l'unico di cui posso davvero avere... Come dire... Prova tangibile, ecco. Quindi... Tangibile tra molte virgolette. Ah, alcuni gusti, ok. Quindi un entai? No, no. Assolutamente no. Erotismo. Non si parla di porno. Attento, ragazzi. L'erotismo è l'arte del... L'arte delle... Appunto del... Del sesto. Tutto ciò che ci circola attorno. Ma in un modo più... Figo, ecco. E poi che cosa si è? Oddio, ma che schifo! Che schifo! Che schifo! Un'assiderazione ovunque, cazzo! Oddio, ma sono tipo... Sumeriani, ma messi peggio! Sì, è vero, si è il sfollo di Bloodborne! Bravo! È vero! È vero, è vero! Sono loro! C'è una piccola cosa che voglio raccontare Adesso avevamo aperto un attimo Questa parentesi, sferotismo e cose C'è una piccola cosa che voglio raccontare Mi fa sempre ridere a pensarci Che c'ero tipo io un annetto fa più o meno Che facevo tipo Ah beh guarda non viene un discorso X Che adesso non vi starò qui a specificare E che facevo tipo Ah beh guarda Fortunatamente Sarò strano ma non mi piacciono i piedi Questo era un anno fa Una cosa che mi fa stare ridere Perché quindi sono le roleplay No quello vabbè è tremendo Cioè dipende ma Vabbè comunque Non è la sede giusta Secondo me per parlarne Ma secondo me è una cosa che la gente fa In realtà più spesso di quello che crede Di quanto forse vogliono ammettere Perché è una tecnica anche di seduzione Di flirt Cioè è un modo di flirt Più avanzato in realtà Quindi ci sta Così come quando mandi Messaggini Endoromantici La stessa cosa Funziona così Per carità Per molti sono cringe Che messaggini anche messaggini romantici Io non ho avuto la prova Però Ehi la Oh vaffanculo Bambino di merda Troppo bello Attaccarli così Mi sento Zoro Mi sento ogni volta Santo di uoggi Sanzen sekai Con ballare Uh ok Per comprare le lobby Per gli spiriti È un po' tardi Per ricevere un oggetto del genere Secondo me però Ci sta Soprattutto come ti ho aperto Un mondo Mostrandosi il dual wield Eh sì 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 Guarda È veramente stata Una notizia troppo bella Da scoprire Perché Non avrei mai provato A utilizzare queste robe Ed è molto divertente Giocare così Più che altro Perché è rapido E faccio molti più danni Così è E mi sto divertendo molto Cioè Schifo non mi fa Ovviamente utilizzare Lo scudo e le cose però Cioè con questo Posso essere un po' più Spericolato Ma Insomma anche molto veloce Quindi mi piace Anche se per carità Scado sempre In le doppie lame Nel senso che è una cosa Che ho fatto diverse Cioè diverse volte No però Ho già fatto Più di una volta Almeno una volta Non è forse il massimo Però Io mi accontento così Regà non vuole Allora È molto diversa È molto diversa Da quello che mi aspettavano Okron Sapete È molto Malinconica È molto spento Come un luogo Tanto di solito Provi sempre più build Diverse nei souls Quindi credo che un po' di armi Anche doppie Le userai in futuro Io in realtà Sono sempre stato Un uomo Da una sola build Tipo Ah ok Ce n'è il video Bello Non una build Proprio una una Ma nel senso Cioè con un personaggio Non cambiavo mai build Di solito Forse l'avrò provato a fare Più che altro Perché ho paura Che cambiare certi equilibri Mi porti un po' Nella merda Il gioco in cui ho usato Di più infatti È stato Bloodbot Nel fare build Diverse Anche se Forse a livello Di caratteristiche Non ci sono tante build Ma a livello Di armi Sì Anche una di larva Ma sti nani Sono ovunque Sì sì no Ma io Io in realtà Sono molto tentato Da provare A fare un personaggio Ranger Prima o poi Onestamente Perché Questo gioco Mi ispira A un certo tipo Di figaggio Nel fare un ranger Però ho un po' Paura anche Dallo stesso tempo Vediamo un po' Vedere questi opliti Vediamo un po' Se magari Abbiamo delle informazioni Se li trovo È un po' Che li trovo Dove cazzo sono? Ah eccoli Gli opliti scudati Appartenevano Al corpo dei falchi Caduti Che un tempo Esplorava la città Eterna Sono indomiti Baluardi La cui difesa Non vacilla facilmente Nonostante i metodi Poco sofisticati Lavorano bene in squadra Possono attirare L'attenzione dei nemici O scagliare fiamme Spettrali dalle retrovie Ok Io le leggo Queste ceneri Più che altro Per sapere Di che nemico Stiamo combattendo Perché appunto In essenza di un bestiario Come tra l'altro Si diceva in qualche live fa Queste ceneri Sono molto utili Per scoprire di più Su questi Nemici Che incontriamo Comunque Comunque qua Troveri la cene Le più fighe Della vita Ok No Non sto per cadere Ecco La runa Maggiore attiva Non vorrei perderla Per se stronzate Cioè Se devo perderla La runa maggiore Mentre è attiva Non voglio perderla Per una caduta Sinceramente Preferisco morire In combattimento E breve Viva messaggio Vabbè Allora Credo si vada Vada di qua Ah ok Ho detto Ah ok Sono rimasto un po' sorpreso Più che altro Perché L'ultima volta Mi sono girato qui E pensavo Non ci fosse Non ci fosse Nulla Invece c'era Un passaggio Infatti per un attimo Mi sono cagato sotto Perché ho riconosciuto Oh oh Ok Ho riconosciuto Il luogo Ho detto Cazzo C'è un buco Invece no Non c'era un buco Me l'ho immaginato io Un'aurea Cosa ci aspetterà ora Spongo un boss unico Non mi aspetto Qualcosa di riciclato Ma Questo gioco Sa anche Sa deludermi In queste cose O quantomeno Sa sorprendermi In negativo Diciamo così No dai Nocron Città eterna Un luogo assurdo Incredibile Boss unico Vabbè Non me lo devi dire Comunque Tranquille Non mi dovete rispondere Molto figo Vabbè Non me lo dovete dire Lo volevo scoprire io Ok Che le lacrime di larva Sono nero Servono per fare il respetto Quindi è interessante Che te ne diano così tante Qui tra l'altro È interessante Che te ne diano così tante Fronterai Gabibbo Oh Si può Ehi Guarda qui Che furbetti Ehi Addirittura Che furbetti Hai capito Guarda di quello Che ti ho detto ieri Non l'ho già dimenticato Un dubbio mi bevo Ma perché Rescaramanzia Di pari Guarda di È solo una Estus, mi dispiace Non sei una lacrima così tanto riflessa allora Perché non ne ho solo una io Poveraccio E soprattutto utilizzo anche uno scudo, bello E chi mi hai preso, scusami Che bello Oh No, si cura perché giustamente è il mio amuleto No Ehi, ehi, attenzione 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 Grazie a tutti. 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 Ok. Allora, non so cosa succede. Device ogni tanto esplodono. Ora... Tranquilli che se non c'è la webcam, lo so. Ora, bisogna vedere se devo risolvere il problema come l'ultima volta, ossia semplicemente staccando la cam e terminandola diretta e riattivandola. Perché in teoria per ora c'è almeno il sync audio, quindi credo che se è passato questo momento strano... Penso semplicemente il PC che ogni tanto fa delle scureggi atomiche e fa crashare tutto quanto, quindi... No, sembra che vada bene adesso, ma sembra che vada bene adesso onestamente, comunque dicevo, dove non abbiamo sentito nulla di tutto il discorso. Allora, vabbè... Vabbè... C'ho giocato più di... C'ho giocato quasi quanto del ring against in impact. Pazzesco. Gioco più bello del mondo. Vabbè. Comunque, dicevo, è una boss letteralmente figa, semplice, ma veramente figa e già mi immagino quelli che potrebbero essere i trucchetti di alcuni, tipo che ne so, in base a tipo... Cioè, chissà qual è il trigger che gli fa partire questa mossa, tipo che ne so, in base a come entri nella nebbia, quindi se entri nella nebbia a mani nude, magari a mani nude, in base a come fai questo, in base a come fai quell'altro, chissà, chissà qual è il trigger e sono sicuro che su internet ci sia già qualcuno, o comunque sia, in futuro, questo boss, diciamo, tu si riseranno le tecniche cheese per farlo easy, tipo, ti toglieranno tutto quanto l'ecopaggiamento per renderlo il più deboli possibile, me lo immagino già. Esatto, bravo, Beast, Phantom B, AlexiQ-93. Sì, ragazzi, AlexiQ-93 è un brutto nick che appartenà a un passato in Fausto, non ci posso fare nulla io, ragazzi. Cioè, oltre che liberarmene, non intendo dire, non ci posso fare nulla, perché era un'idea che avevo in passato. Quando avevo, tipo, 12 anni, tipo, una cosa del genere, 13 orse, non mi ricordo, no, 12. Sostanzialmente quando spona, clona la tua build del momento, di quel momento lì, ah, e allora, e allora mi sa che è rompibile facilmente questo boss qui. È veramente rompibile facile qui. Vuoi di copiare il CiccioGamer? No, no, anzi, il CiccioGamer non mi, non lo seguivo nemmeno. Cioè, ce l'avevo lì, mi stava anche simpatico, stava, anche simpatico, ma non l'ho mai voluto copiare. Comunque, mi sono ricordato che in realtà volevo tornare alla tavola della grazia perduta, perché in realtà volevo upgradeare un po' l'arma. Perché almeno più 16 lo posso fare, quindi... No, però non avevo in mente di che nome mettere, quindi ho detto ho messo quello più... No, ah no, ok, madonna ragazzi, mi sono cagato sotto, mi sembra che non ci fosse più Roderica. Ho detto, tu è finita. Sono rimasto genuinamente malissimo, sono morto dentro per un istante, ok. È ancora lì, è ancora lì. Eccoci qua, via, più 16. L'unica cosa che potevamo fare era quella, quindi... Dai! È rompibile, facilissimo, però è da scarsi farlo facile, dato che già di persona... Sì, sì, alla fine è abbastanza semplice. Meno che non hai una cosa talmente rotta che se la utilizziamo in NPC è ancora più rotta. Però per il resto... Vabbè, comunque è veramente figo. Odio la mia vita e la pubblicità. Eh ragazzi, io ho bisogno di essere supportato. Quindi vabbè, non c'è più FIA, come ben sappiamo. È andata via e si è portata dietro il suo carissimo amico. Rimpiango al momento che è renduto i 50 polli con tutto il mio cuore. Vabbè, affanculo. Intanto, tanto comunque ormai di quei 50 followers non è rimasto tipo due, ne sono rimasti. Io, veramente ragazzi, ma come cazzo abbiamo fatto a raggiungere non 50 followers, perché ancora ancora quella lì è plausibile come cosa, ma come cazzo abbiamo fatto a raggiungere tre spettatori di media per tipo... Cos'era un mese se non erro, qualcosa del genere? Come cazzo abbiamo fatto di preciso? Che ora ne raggiungiamo a malapena due di spettatori media live. Come abbiamo fatto in quel periodo a fare quelle live con così tanti spettatori? Boh, vabbè, pazzesco, vabbè. Comunque, non c'è che è un cazzo ormai. La mia vita è destinata a finire e tra qualche anno non mi vedrete mai più, ma non perché non sarò più su Twitch, perché non ci sarò più nel mondo in generale. Probabilmente deciderò di farla finita un giorno. Allora, aspettare è un po' troppo noioso. Forse l'estate, appunto, l'estate la gente esce. Non sta a guardare a Bizarre Phantom Twitch. Per il Darksten ha avuto un picco di 16 spettatori. Abba, quale era su YouTube? Lascia fare. No, non è un albero madre, è un ramoscello di merda. Andate qui. Ma va a far ancora non ci pensare nemmeno. E invece... Spoiler, ci penso. No, no. Ah! Ok. Bravi. Ah! No, me la dà. Bravi un cazzo. Allora, vabbè, siete asciuti, siete stupidi. Ok. No, non lo faccio, sennò chi farà la top tenereina. Infatti, ho detto, tra un po'. Tempo che finisco il mio dovere. Clippa, pinca, vai. Ah, un Pokémon. Dai, però, raga, veramente dovete clippare un po' di più, porca puttana. Ci sono delle cose che mi fanno morire da ridere. Ma che non... Cioè, io ci ripenso a guardare dall'esterno e mi fanno morire da ridere. Per carità, devo avere un'alta stima di me stesso. Se mi fanno morire da ridere delle cose di me stesso. Però, comunque, cioè... Sono delle robe che mi fanno molto ridere e che non vengono mai clippate. E lo ripeto sempre, però. Se le clippate, le clippate parzialmente, ragazzi. Dai, non è così difficile riuscire a clippare le cose. Io, per carità, non ci ho mai provato, però. Cioè, ci provo con le mie live, ma... In past broadcast. Ci provo e lo faccio con le mie live in past broadcast. Oh, Gesù, ancora quella... No, io quelli li schippo, almeno c'è un cazzo. No, non è vero, non li schippo. Non li schippo solo perché non voglio morire e perdere i poteri della runa maggiore. C'è qualcosa qui? Un pezzo. Ma poi posso usare il cavallo, sì. Posso usarlo, allora. Che sto facendo? Sta facendo. Che spacciam... No, un'altra roba a ste robe. No, c'è, un'altra volta a ste robe. No, che palle. Schippa tutto. Mamma mia, che tu coglione. Altre fiammelle del cazzo, mamma mia. Ma non vi bastavano le altre 7.000. E sarà sicuro scendere giù, non è che poi ritorno... Boh, vabbè. Intanto. Intanto c'è il trasporto, quindi. È dubbio. Aquila. La mia domanda è da dove arrivano i volatili? Cioè, perché vabbè, ok, adesso c'è un buco nel cielo gigantesco da una parte, però... Come ci arrivano di norma i volatili qua sotto? Perché capisco tutto, però... Da una parte devono arrivare, quindi... Ecco, qui credo che torniamo invece alla zona originale, no? Sì, immagino, no? Ah, tanto qui siamo sotto... Eh, sì, è vero. Sì, è abbastanza sicuro di sì. Proteine. Me ne do un po', effettivamente, che non ammazzavamo animati. Allora, io vorrei utilizzare il cavallo, però... È incredibilmente pericoloso. Ecco, infatti stavo per cadere come uno stronzo, quindi... Per prima cosa, qualcosa di incredibile. Stelle! Va bene. E... Ma non c'è nulla qui, oltre all'oggettino che c'era lì. Sembra strano che non ci sia nient'altro. Più avanti non troverai oggetto. Beh, effetti. Ma dove... E quindi la mia unica scelta è... Vabbè, dai, provo a scendere là, vediamo un po' dove mi porta. Se poi mi riporta alla zona originale... Ah, no, ma forse no. No, 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 ma questo è sopra comunque. Mi sa che non mi riporterà alla zona originale. Vediamo. Sperimentiamo un po', anche se ho un po' paura. Tipo, no, qua sopra. Ci potrò... Aspetta, mi sa che non ci posso stare lì. Allora, ci sono degli animali, quindi... Però no, no, non mi fido. Non mi fido per niente di andare lì. Che lo sia... Ah, no, aspetta, però c'è un oggetto lì, quindi vuol dire che non ci sono mai stato. Attenzione, attenzione. Vittoria! Vabbè. Fungo disciolto. If... 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 Ok. Ui. Uuuh, ok. Uuuh. Uuuh. Ah, vabbè. Un oggetto più brutto, in realtà. Ah, come due? Ma come potreste di proteine? Ehm... Pietra da forgiatura due? Ma come? Ma che schifo. Dio Cristo. Non servono più a nulla. Le posso pure comprare, per quanto cazzo fanno schifo. Hoggers. Oh, eh no. Un cazzo, in realtà mi servono quelle da 6. Oh, non si trovano quelle da 6, comunque. Arma al più 18, impossibile trovare materiale per l'arma al più 18, a quanto pare. Darci loro. Aspetta, no, non mi dia che devo scendere qua. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Ah, ok, qui si ritorna. Ah, sì, qui si ritorna dove c'era il bastardo d'arconico. Ok. Va bene. È abbastanza per farmi capire di aver tornato indietro. Proteins. Oh, che palle. Aspetta che devo salire un attimo la colbina. Oh, che palle. Ok, ragazzi, vi giuro, ultimamente sto leggendo... The Witcher è veramente divertente. Cioè, probabilmente è uno dei... È probabilmente finora di quei pochi libri appunto che ho preso, che sto leggendo. Libri, libri. È quello che mi sta prendendo di più con i racconti. È proprio figo. Spero che a questo punto il gioco tenga fede ai personaggi. O comunque sia che li illustri per bene. Soprattutto spero ci sia Ranuncolo, da qualche parte, in The Witcher 3. Perché io non ho idea più poi di come va davanti la storia, per carità. Perché non so nulla io di la storia di The Witcher per ora. Essendo il primo libro sono racconti, quindi della vera trama sono nulla. Però Ranuncolo è un grande. Non so se lo fai. Aia. Poveracci, poveracci. Quanto mi dispiace. Oh, fantasmino. Signore del sangue, eminenza. Ti supplico, concedimi un seggio alla tavola della dinastia. Lunga vita alla dinastia Mogwin. Lunga vita alla dinastia Mogwin. Secondo me, anche se ci inoltriamo di qua, non scopriremo i segreti che speriamo di scoprire. No, Kron. I veri segreti si trovano altrove. Sono abbastanza sicuro. Tu stai buono con quell'arco, eh. Ah, non ha un arco. Che sta facendo? Sta danzando? Ah, no, è un corno. No, 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 no. Uba? Non penso. Ostia! Che male! Porca troia! Il vigore è tutto consumato! Il posto non c'è un posto e darà la follia, sono sicuro. Apriremo. Sì, quando ci arriveremo? Non è mai stata una questione di se è sempre... Oh, no! Oh, no! Oh, no! No, nel lupo di Radagon! Ma perché? Ma perché? Nooo! Non mi sei mai piaciuto, tu! Perché? Con tutti i lupi! Affanculo! Tu, Miyazaki, la tua ossessione per i lupi! Non potevi usare, che so, i procioni, no? I lupi! Affanculo! Eh, vabbè! Che palle, ragazzi! Lupo di Radagon, veramente! Il nemico più fastidioso del mondo! Eccoci qua! Via! Aspetta che muoio, eh! Tempo che muoio, torno subito! Aia! Porca roia! Ok! No, no, no! Spadina di merda! Aspetta, Miyazaki è piaciuto solo con i lupi! La affin grave, è vero, è vero! Sì, 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 ma infatti secondo me ha dei problemi gravi, eh, Miyazaki! Oh, guarda! L'acqua qui! Vabbè! Non devo pensare alla... Alla... Alla gravità di questo luogo, perché non ne ha! C'è l'acqua qui sopra, poi c'è... Oh, wow! Ok! Ma vado in palestra dopo! Ma non dovevi andare a 19? Vabbè! Non importa! Vado, vado! Si diverta! Adesso tipo, sono le 19, io tipo, cosa? Come? Sono già le 7! Sono le 7? Vabbè, che sta? Il mio amico ha detto ora... Oh, scus, scus! Ehm... Non volevo contestare! Chiedevo! Cazzata come mostro! Oh, aspetta, eh! Le amazzono in cazzate nere, eh! Aspetta! Oh, là! Quanti danni! Eh, sì! Più forti loro degli uomini! Una tribù matriarcale, palesemente! Ehi, 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 ehi! Ehi, ehi! Eh, vabbè! Ma perché uno spintone deve essere così potente? Cioè... Piegami! Oh, ecco! Le toaline non esiste un po' per... Bravo! Oh, vabbè, sì! Ah, che non è capita qualcuno, allora, la... 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 La referenza! Colpo incantato! Ehm... Looming? Looming shot? Una medusa! Una medusa! Oh, la medusa! Vabbè, che cazzo me ne frega delle meduse! Tanto non sono... Oddio! Sono diverse da quelle del solito, oppure no? No, mi sembrano uguali! Quelle del solito, poi cosa vuol dire? Non si sa, però... Chi è? Che vischia? Catcalling? Catcalling sulla... Sulla signorina che cantava? Ah, no, sono gli animali! Ragazzi, non fate catcalling! Non è che solo perché siete animali siete giustificati! Eh, dai! Che porci, questi uomini di oggi! Oh, bello! Grandi corna luminosa! Mmm... Ok... Ecco, più forte il mio... Il mio... Il mio fischio! Guarda quante proteine che ci sono qui! Immagina... Immagina avere la pazienza di ammazzarle tutte! Ehi! Oddio! Cazzatissimo! Bono, 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 bono! Oh, io! No! Oddio! Sette! Sono sette! Ok! Ok! Bono! Ah, dai! Ok, aspetta! No, quanti sono? Ma sono veramente sette! Aspetta, io stavo scherzando! Ma io sono veramente un sacco! Ok! C'è un altro lì? O è un cervo? È un cervo, ok! Belliccia, grazie! Una terza volta! Ancora! Ancora! Ancora? Ma tutti qui poi? No! No! Porca troia! Ho perso i benefici della runa maggiore! E niente! A posto così! Ah, eh vabbè! Eh vabbè! Sono molto tentato di riattivarle ancora una volta, onestamente! Perché sono catalmente comodi con i benefici che non vorrei più disfarmene! Però, devo mantenere le mie risorse a modo! Appena arriviamo al boss, dai! Sì, arriviamo ad un boss! Guarda qui! Stanno venendo del picnic! Basta! Oh, i cucri! L'arma più forte del gioco! Fate via! Merde! Sparite! Campi del Sacro Corno! Beh, sembrano un'altra zona di boss! Ma non penso che si possa andare ancora un'altra dallo spirito ancestrale! Abbiamo già fatto il cazzo abbastanza, penso! Guarda lì che attaccano in campi sacri! Ma guarda te! Questa gente! Un luogo sacro! Non ci so, possono essere battagli in un luogo sacro! Ha un aspetto familiare! Oh, merda! Però effettivamente se non ci sono da accendere ancora... No, ma non mi dire che devo affrontarlo di nuovo! Dai, no, eh! Allora, perché mi manca un fuoco da accendere! Però non so dov'è l'ultimo fuoco! Aspetta, per un drop lì! Un'aurea! Let's go! Escrementi dorati! Dai! La merda d'oro! Ok! Allora, credo sia di là... Sì, perché di là non ci sono stato! Quindi, suppongo che... Pensavo di quasi andarsi avanti! Ma mi sa che di qua c'è il... Lupacchiotto! Lupo tirata che non respona? Non respona! Non mi sembra almeno! Ed è una cosa molto positiva! Giusto ragazzi? Non vi sento! Sì, ciao! A una prossima vita! Ecco qua! Il potere si accumula nelle corna! Ok! Nel realtà sono molto interessato anche a scendere qua giù, eh! Vediamo un po'! Vabbè! Ok! Non... Dovrebbe... Vabbè! Vabbè! Non ci posso ancora andare, ho capito! Scusate! Ho azzardato a fare qualcosa che non si doveva ancora fare! Non sia mai, eh! Non sia mai! Vabbè! Vabbè! Scusate! Torno subito lì! Piuttosto mettimi una parete invisibile... Cioè io apprezzo di più le parete invisibili onestamente! Tipo alla... Alla... Alla Sekiro piuttosto che la possibilità di buttarmi in luoghi che mi ammazzano così! Vabbè! Ok! Che poi i messaggi tra l'altro sono anche molto ingannevoli su quel proposito! Va bene! Ehi! Prendi le grazie! Eh! Prendi le rune! Affanculo! Oh! Mamma mia! Ragazzi, siete tutti morti in chat! Fino ad un attimo fa scrivevate in sette e adesso siete tutti morti! Mi piace perché la chat ha questi momenti di alto e basso la mia chat, cioè... Momenti in cui c'è... Tutti scrivono insieme e poi momenti in cui non scrive più nessuno! Va stranissimo! Vabbè! Oh! Quindi più avanti invocazione sacca! Vero, non capisco! Perché siamo in pochi, ragazzi! Quello è il segreto! Se fossimo in un po' di più... Sarebbe diverso! Io ve l'ho detto, ragazzi! Mio sogno è quello! 10 spettatori! A parte... Anche solo una volta in una live, perché finora siamo arrivati a 9 spettatori in simultanea per... Ma scherzi! Minchia! No, perché noi non l'abbiamo... Cioè, io l'ho letto in privato la descrizione di questo oggetto, ma è fortissimo, ragazzi! L'ho ottenuto anche il più uno, che tra l'altro ha una roba diversa, ha il doppio corno, giustamente, ok? Cioè, porca puttana! Ma a me sembra potentissima sta cosa! Magari mi sbaglio, ma a me sembra fortissima! No, vabbè! Sto a caportare fortuna, il live di fortuna e ti ritorno! Non so! Mi sa che moriamo! No, no, dai! Ma dai, ma che due coglioni! Ma non è morte questa! Ma non è morte, Cristo Santo! Ma Dio Santo! Quanto l'odio sto gioco! Dai, cazzo! Ma accessibilità! E poi... Due metri di caduta muori! Vabbè! Col cavallo, poi! Dio Cristo! Ma perché? Ma perché? Boh! No, 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 fermo! Fermati! Aspetta, dove sono? Ma sbaglio sono... Ho cambiato luogo! Aspetta, dove cazzo sono? Cos'è quello, tra l'altro? Cosa sto guardando? Fermi tutti, ma... Ma... Ma sì, no, è giusto, è giusto! È giusto! Sono impazzito, semplicemente! È giusto, è giusto! È tutto giusto! È giusto anche il fatto che forse non sono... Non ho ancora riuscito a quel posto, anche se... No, no, con un salto ben piazzato non ce la faccio, non ce la faccio! È abbastanza ovvio! Oddio, ma lì c'è un altro trono di quelli giganti! Oh mio Dio! Ok! Ci siamo persi, tipo, la parte interessante di... Di questo luogo qui, o sbaglio? Non ci vuole andare, oh! Che finora! Vabbè, 24.000 rune le posso anche lasciare lì, Sinceramente, non mi interessano molto O no? Non lo so, in realtà Prendiamo? No! Ah, vabbè, sì, dai, le prendiamo Non me ne faccio molto di 24.000 Tanto sono, tipo, metà di un livello Anche meno Oddio, se alzi con 50.000 sono metà Andiamola a prendere Facendo un bel giretto di qua e di là Piffete, piffete Papparezzi! No! Vabbè Non lo prendiamo Non le prendiamo Non le prendiamo Ah, ecco perché Perché mi prendevo Riprendevo la statua di Marika Ecco perché, infatti, mi sembrava molto più vicino Prima rispetto ad ora Perché non c'era la statua di Marika Nella zona lì Vabbè Perché motivo lì sopra non contava la statua di Marika Infatti Ricordavo di responare molto più vicino alla zona A questa zona qua Invece Appunto, mentre la grazia era più lontana Infatti Ero totalmente stranito Perché non c'erano Non Non erano le stesse distanze Oh, no Ok Sì, però Non mi fate rifare il cervello ancestrale Sì, cervello Cervo ancestrale Vi prego Cioè, non ho voglia di rifarmelo Ancora Badone Vabbè Vabbè Io me la rattivo Tanto me le hanno date Vabbè 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 Voglio dire Me ne danno Quindi io le uso Ancora Ma Ah, regale Attenzione Questo è diverso In cosa sarà diverso? Scopriamolo insieme Trasporti Questa è la grande differenza Ci sono le capre Caprioli ci sono Questa è la grande differenza Aia, 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 aia Mamma mia Che male Ok Ouch E' sfuggente E' una rottura di coglioni Vabbè Senti Aspetta Un attimo Con le doppie armi Non mi convinci Preperisco attaccarti In modo molto più cattivo Vabbè Però Falle che sei Vieni qua Un attimo Dai Vabbè Niente Non riesco a colpire Ok Attenzione Questo potrebbe Oh Ok Attenzione Ecco Non è cambiato nulla Ma cosa fa? Muore e rinasce ogni volta Perché sembra quasi che sia proprio quello È strano È molto strano Wow Ah ma si è rifatta la vita Oh cazzo Ok Quindi è questa la tua differenza Ah Questa è effettivamente La boss Allora Il primo era solo Oppure il trofeo c'era il primo Quindi Strano Beh Senti È uguale Rattato Oh Dai Allora Eh Eh Merda, 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 merda Ok E però basta che non si cura ancora, Dio Perché Paura che magari si possa curare spesso Prendersi fastidioso Perché è difficile Ora, no? Che adesso è rinato Speriamo che Va bene Tutto mi sarei aspettato da un cervo Tranne che una rotolata però Oh ma hai rotto il coglione Dai, senti Eh sì, vedi che recupera vita Sì, recupera vita mi sa degli animali Dall'animale che è attorno Recupera vita Non male, dai Chi sta Proprio Mamma mia Che noia Mamma mia Che noia Ok Is that the best you can do? Come direbbe Oddio, chi è che lo diceva? Era Cloud Cloud lo diceva nel primo Kino Marts Is that the best you can do? Ok Ma la musica che spettacolo Il boss è un po' meno Ma Una musica Veramente no Cioè nel senso Ma non perché non sia bella Cioè però Cosa banalissima Cioè due strumenti suonati A massimo Basta Cioè Io non voglio sminuire Gli autori di questa Di questa composizione Ma è È dimenticabilissima Quindi Dico solo questo Quindi questo era un boss serissimo Mamma mia Non è una musica da combattimento No 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 Non è quello il problema È una bella host oggettivamente Ma Una host Banalissima Cioè proprio La cosa più banale del mondo Ricordo che c'era di normale Anche rotolava Ma è vero È vero C'è ragione Allora Cioè come quando mi viene da dire Spettacola Cioè quando c'è gente Che dice spettacola Ste roba È un po' Ma può darsi Per me no Ormai non più Almeno Dopo che ho giocato A certi giochi Che E non solo Ovviamente che hanno Certe host assurde Queste cose Non mi sorprendono Per niente Infatti Non Non tendo a non Non ricordarmi nemmeno Allora Allora Che non devo fare ora Perché Non mi ha mai dato Un indizio Cioè Ok ho sconfitto Lo spirito ancestrale Quindi Forse posso Accedere qui ora Non mi sembra Perché Boh Posso provarci Ma io No Guarda com'è Il terreno Lì Ci sono tutte Le shader Sbagliate Non si può Accedere Ancora Si vede O forse Non si può Accedere Del tutto Al dubbio Un po' Un po' Un po' Un po' Di dispetta Degli stercorari Perché E quindi Cioè La grande Nocron Finita qua No Ci saranno Entrate Da qualche parte Di qualcosa Immagino Perché in teoria La città è qui Quindi La città L'abbiamo Un po' Bypassata Se ci pensate Cos'è questo Ah è una grazia Oh la città La parte che mi interessava Ok Meno male Avevo paura che E viva stelle Sì Aspetta un secondo No Sbagliato Non vienesci Ma Mettere Un trofeo Per lo spirito Ancestrale E un altro Per lo spirito Ancestrale Regale Ha un cazzo Di senso Secondo me Ma Ok Oh Finalmente Siamo ad Annalrodeo 2.0 Suolo Consacrato Alla notte Quello regale È leggendario Ma non Contro il Mastino Lavico Mastino Lavico Per noi Ragazzi Vediamo A 10.000 Like E vi Vedisco Un altro Mastino Lavico Dal deck Facciamo Il deck Dei Mastini Lavici Altri 50.000 Like Crack Crash Crash Royale Con le gemme Infinite Ah Quello però Non sono io Che cosa Che mimic È quello Cioè Un'altra Ok Vabbè Te le danno Un po' Punk Comunque Ti stanno Proprio Spingendo Utilizzarle Io le utilizzerò Ora che le conosco Quindi Grazie gioco Ne farò assolutamente Un uso prezioso Oioioi Mamma mia Sto per cadere Di sotto No Porca Puttana Ma che Cazzo È stato Cos'era Quel movimento Di telecamera Ragazzi Oh Basta Siamo impazziti Siamo impazziti Ma cos'era Quel movimento Di telecamera Ma che Cazzo Fai Più avanti Non osare Vabbè Scusa Oddio mio Perché Deve Far venire L'infarti Sto gioco Ah Messaggio Ci arrivo Credo Di sì Con una Bella Corsettina No Non ci Arrivo Ok Non ci arrivo Vabbè Unlucky Senta così Vabbè Senti Ce le stanno dando Le setter uniche Non vedo perché Non usate Finché Non ne saremo Accorto Non vedo perché Non sfruttarle O dite che Anche questo È un po' Un Non barare Ma comunque Sia un Vincere facile Non lo so Magari Porca troia Però la telecamera Magari è un po' Come evocare Le spiriti Deve utilizzare Le setter uniche Non lo so Ragazzi Ditemi voi Cioè Ditemi voi Nel senso Se a me va di usarle Prega cazzi Ciò che faccio C'è uguale Non è che Stato ad ascoltare A voi E basta Però ditemi voi Se per voi È giusto Oppure no L'utilizzo Di queste Saette Perché comunque Le rune maggiori Tecnicamente Le otteniamo Di diritto Sconfiggendo Dei boss Quindi E quindi Cosa faccio Da qui No dove va No Ma signorina Vabbè Eh ma quindi Per me è giusto Vabbè Ah perché poi Non voglio passare Per la parte Sai di quello Scarso Cose Ah ok Si può tornare Semplicemente Ok Nice Madonna se Cadevo Madonna se Cadevo Un'altra Mimic Tear Eh si Lacrima D'argento Bella Doppina Ehi 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 Poi magari è pure giusto Andare lì dietro Ma non in quel modo Quanti farfalla Ah Letteralmente, è vero E che è morto qui, scusami Persona grassa Non è il tipo Un po' di scemi, totale Allora Ok, ci sono altre cappe Ah, oltre a quello Eh C'è avanti bugiardo Tanto oggetto prezioso Ho paura di buttarmi Di volta Ma perché devono esserci tutte queste aree così? Oh, ok Lama da affilatura nera Cos'è che facciamo le lame da affilatura? Oii Una spada di pietra, attenzione Cos'è che facciamo le lame da affilatura? Che me ne sono dimenticato Erano oggetti chiave Quello me lo ricordo per certo Mi ricordo però cosa facevano Ah Ah, ma come? Adesso Oh ioi Ok Quindi adesso si può rendere Ogni arma Sanguinolenta Velenosa Occulta Non so cosa voglia dire Cioè cosa Cosa infligge con occulto Boh Forse il morbo Non penso Boh Figata Ok Carino Carino Quanti abbiamo tratto di spade Di pietra? Andiamo un po' Cinque Sette Ok Vai Infatti È un nemico Quindi non mi sembra Il momento di bere Fa sentire in colpa Quasi Coraggio No aspetta Ma cosa vuol dire Ma è quello che penso Lo spirito assume l'aspetto di chi l'ha evocato E combatta al suo fianco ma non è in grado di imitarne la volontà La città eterna voleva creare un lord Le lacrime e le fresce Ma che figata 660 punti vita Quindi ti toglie Quindi non costa nemmeno PA Costa vita Ti toglie tipo metà vita Ma che figata Puoi evocarti Puoi praticamente clonarti Kagebun Shin no Jutsu Letteralmente Ma che figata Chissà quanto è forte Più che altro Bisogna vedere Ma che figo Più avanti imitazione Bello No vabbè Spettacolare Perché è sempre bugiato Bellissimo Bellissima idea Wow Wow Ok Un planetario Attenzione aspetta Perché lì c'è un oggetto Che non ho preso Che figo Ragazzi Mamma mia Sono queste cose Posso dire Ah no Ok ma non ci posso andare di là Posso dire che ora Sento che veramente Stia diventando No Questo è Bloodborne Totale Comunque sta roba Vabbè Comunque Ora posso dire che sta diventando Veramente soddisfacente Come cosa Ehi Ehi Oh Oh No no Ehi No no Pensavo si spingesse Non pensavo Camminasse da solo la palla Oh Ma siete pazzi Oh 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 Ah 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 Addio Aiuto Aiuto No 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 Non dopo Sherlock Holmes Ok No Aiuto Ah Guardate Ma chi l'avrebbe mai detto Che avrei dovuto affrontare Una palla No Addio No Fermo No Fermo Abbi pietà Abbi pietà No No Oddio Stai fermo un attimo Fanculo Donna di merda Oddio Sembrava una donna Sembrava una donna Addio No Ma come faccio Culo stretto Non funzionante Ok Oh Oh my god Oh my god Sono a provarla tipo ora Non dito che sennò peggiora Che vuol dire No non lo so Cosa si rivede Ah è vero La vergine dell'oscurità Direi che era un abbastanza donne Bello come Come cavo per cavo Comunque Proviamolo Non era questo però Leggermente Vistoso Ok Va bene Però lo voglio provare Sinceramente questo Ma è bellino in realtà Cioè non su di lui Però è bellino per davvero È molto caruccio Da vedere Molto molto carino Mi piace Ok Quindi Comunque no Vabbè Se l'avessi provato Sarebbe stato un po' Un casino Quella cena Cioè la vorrei provare Dai proviamo La proviamo una volta Per il fatto Consuma 660 punti vita Sono Metà vita Più o meno Quindi Non il massimo Poi bisogna vedere Dove si può provare Quindi io la tengo Equipaggiata E ok Tipo qui si può provare Ecco È fighissime OP Eccoci qua È arrivato Niente Sorpresa Robin Non la voglio più provare Vabbè scusa Vabbè dai No la proviamo Dai Dai vai Al mio fianco I fratelli delle lame doppie Let's go Vai Ha Nessuno ci potrà fermare Oh Auto Banna Ti banno te Sì però potresti anche andare No Attenzione Aiutami Tienelo d'occhio Da entrambi i lati Attacco combinato Vabbè Ma come È già andato via Ah Ah è perché Oh Che cazzo Oh mio dio Trolls Ma che figa Che figo L'effetto di apparizione Bellissimo Mi dispiare piccolo L'ora di potenziali Fino a piedere Dove fa praticamente Il danno che fai tu Wow Ok Bello Eh effettivamente Sì è abbastanza OP come cosa Non mi aspettavo Persone enorme Che è fighissimo Comunque Le Il robot Il robot che si trasforma Era un'animazione Fierissimo Allora È una vita Mastodontica Beh Bello dai Abbiamo trovato I modi di rompere Elden Ring Insomma Piano piano E tutto In tutto questo L'unica cosa Bisogna fare E uccidere la danno Comunque per ottenerla Più che vita È una resistenza assurda E ucciderà la danno Uno dirà Vabbè Non è così difficile Non è così facile Insomma Se evochi tutta la gente Che c'era lì Diventa decisamente Più fattibile Secondo me Uccidere Quindi Anzi Direi Non so se vi ricordate Ieri Secondo tentativo Quando avevo provato A evocare un tizio solo Ha fatto il 40% Siamo arrivati al 40% Di vita Quindi con tutti quanti I tizi Penso proprio che Gia facilissimo La danno Penso eh Non vorrei Essere troppo Un attacco Mi ha sciottato Alla che mi ha fatto 400 di danno Lama flagello Delle dita Grande con valere Spettrale La seconda Tra l'altro Lama flagello Delle dita È una È una Che cos'è Vabbè Per lama Sì ok Uno penserebbe A un'arma Giustamente Però Non è sempre Così immediato Come ragionamento Eh Qui ci penso Alla Alla Che posso Deppaggiare Molte più armi Adesso Con questa roba Con questa roba Con questa roba Maggiore Lama flagello No Mi sono già dimenticato Come si chiama Vabbè È finita così Non era forse Flagello Non mi ricordo Lama Flagello Delle dita Sì è giusto Giusto Non mi ricordo Cioè non so Cos'è È un oggetto chiave Di qualche tipo Lama flagello Delle dita Lama flagello Delle dita Non materiale di rinforzo Non penso proprio Cazzo è Lama flagello Delle dita Ah ecco Tesoro Nascosto Di Nocron Ah Un oggetto chiave Si narra che questa lama È sanata da un cadavere Questo feticcio Insanguinato È la prova Dell'alto tradimento Commesso dalla città eterna E simboleggia la sua rovina Alto tradimento A chi però Non può essere brandita Da chi è senza destino Ma sembra che possa colpire La volontà superiore E i suoi vassalli Ok Dove siamo Ah siamo tornati qua Forse abbiamo adesso Il tesoro Della città perduta Possiamo andare da ranni Proviamo Dov'è Pensi la strega Dov'è Aspettavo ci sarebbe stato un boss Invece non c'era Strano Ok Run him Sono stato molto più bravo Degli altri Fare il mio lavoro Ragazzi ho bisogno di un altro elmo Perché questo Mi piace Non è nemmeno così male Però si vede un po' che stona Quindi Vorrei Ho un altro elmo Direttamente un'altra natura Così posso cambiare Anche del Che simpatizzatore L'ho detto Quello lì A lui Sta a fare nulla Eh 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 Beh eh 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 Ho capito a cosa serve Sì, no, no, certo Certo che lo so apprezzare Grande, brava Runner, il nuovo wife un cazzo Brava, grande No, scusate, nel senso No, no, grande Va bene Va bene Va bene Quattro mani Un utilizzo dovevano pure avere No, scherzo No, ma nel senso Allora Allora, vediamo un po' La descrizione dell'oggetto Ah, va bene Lo dice pure nella descrizione Quindi non sono un genio io Vabbè Per svelare il suo segreto Collocalo sul pedistallo dell'orbe celestiale Yes Yes Minchia, c'è che Che giro che devi farti Per prendere quel cazzo di Per sbloccare quella cazzo di roba Alla torre Mamma mia Senza senso A certe cose Senza senso Senti Posso andare a ammazzare Lo stregone Mi sta un po' Su cazzo Posso? Adesso Tanto ho finito il lavoro No? Cioè, basta Chiuso i battenti Con Rani Aspetta Andrò un attimo da lui Vorrei capire due cose Comunque fammi togliere La mimic tier Perché comunque Allora devo utilizzare Degli spiriti Preferirei Comunque Sottati marionette Credo No, forse no Non lo so Perché se la mimic tier è OP Poi un po' mi dispiacerebbe Anche se per carità Le spiriti li utilizzo Soltanto quando non ho voglia Nemmeno di combattere Ma di vincere Quindi Stavendo Sta Che palle Io vorrei Vorrei Porca troia Io però vorrei salire Su quel cazzo di alto piano Che c'è Sempre qui a Liurnia Ma ancora non ho idea Di come salirci Sono molto triste Perché voglio tanto tanto Salirci Babbo Mi porti Sull'alto piano De Liurnia Si è aperta? Si è aperta Si E vai Dai Sono andato qui per caso Ed è aperta Nice Vediamo un po' cosa c'è Scusate Non so perché faccio queste voci strane Non dovete farci caso Sono un po' pazzo Oh Ah Vabbè Le vesti della wife Per così dire No? Vediamo un po' cosa ci dicono In realtà È importante Faranno l'odore Di Ren Reni Ren Ranni Non Ren Vabbè Pazzo di te No condoleanze Alex Che condoleanze Di cose Vabbè Indostato dalla megera delle nevi Incontrata dalla giovane Ranni Nel folto dei boschi Costai era una strega Esperta di stagionire Delle freddo Si dice che la bambola In cui alberga L'anima di Ranni Sia stata modellata sulle sue fattezze La vecchia strega In segreto La sua mentore Ah Quindi è una bambola Ok What is it Posto così Lo capirai prima o poi Oh però Se mi fa un'altra anticipazione Ti ammazzo Scopri un'anticipazione E io ti uccido Adesso Eccoci Un portale Ecco qua Anticipazione Due punti Fatta Devi smetterla Devi smetterla Con questa vizio Devi aspettare Il momento giusto Cioè Immagina Immagina nella vita reale Di oh oh Immagina nella vita reale Di trovarti Una persona davanti Una persona di cui Sai lo scorrere della sua vita E gli dici Condoglianze Perché Poi Dieci minuti dopo Apri il telefono E gli dicono Che è morto il nonno Non lo so Qualcosa Come ti sentiresti Alla terza di ban Ah no Aspetta Oh bello Dark Souls 3 No scusate Ehm What? What? Un po' Ora Io ho Ora Io Uno perché C'è Due Serviva La dicitura Una bambola inanimata Gradevolmente fresca Cioè Cioè Già Già che mi dici Perfette In ogni dettaglio Dalla testa Ai piedi Già Mi stai Particolarmente Intrigando Poi mi dici Anche una bambola inanimata Gradevolmente fresca Ci sono andata Un paio di cose Ho capito Va bene Non la darò a Blade Ho paura che quello lì faccia cose terribili Se la do a Blade Cioè nel senso Non che la cerchi Ma secondo me se la vede Tipo Oh mio dio Quella E poi si incazza Cioè poi si arrapa Ma attacca Perché la vuole Va bene E poi non so Non è tipo fratello Sì fratellastro Vabbè si sa Tra fratellastri e sorellastri E così sempre La legge della natura La legge della natura Ah sollievo Visione di calma Va bene Va bene ragazzi Va bene Una bambola di ranni Miniatura Che bello Mi serviva proprio Mi serviva proprio Porca Porca A proposito Non ho controllato la mappa E in realtà non so Se voglio farlo Sapete Lo farò Ah no è vero L'ho controllata Sì sì siamo sotto Scusate Me l'ho completamente dimenticato Siamo sotto Ma perché mi sembrava Una zona nuova All'aperto Ma non siamo all'aperto È solo un'impressione Siamo tipo in una caverna Che cazzo è quello Ragazzi Che cazzo è quello Quel coso è grosso È molto grosso Oh no Un altro Che fallo Ok Ah Ah vabbè Giustamente Ok Siamo ancora in queste rovine Un altro lato delle rovine Ma sono sempre le rovine No Quindi Ha senso Ciao Ciao tesoro Aiuta E questo se non erro Non si poteva nemmeno eliminare Tra l'altro da vicino No Forse con le attacche in salto Ma Nel massimo Ecco Eh no Nemmeno Ah no 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 Attenzione Attenzione Quella testina di merda Che ti ritrovi Attenzione Stannatino Stannatino eh Stannatino Godo Godo molto Uh Mori Perché è sempre nemico debole Vabbè Sempre no Veramente L'ultima volta Era una rotura di coglione Uh Nice La barda Più 7 in arrivo Forse anche al più 8 In realtà Credo Certo Più 7 è sicuro Più 8 Non lo so Un po' Ma non botto di danni In questa zona Mi preoccupano un po' Che fai? Fai rolli? Ma come 2700? Cosa? Quanti rune? Ah Ah ma perché era quello speciale Ah Ok Ok Mamma mia Un botto di rune Mi ha dato Porca però 2700 Ho detto come Non possibile Scusami Parm incredibile Invece no Perché comunque Danno 500 rune Di nuovo Vabbè Non sto ad ammazzare tutti Uh Con valere Aspettare i 7 Ottima Perché non ce l'avevo Se non erro O forse l'ho tenuta Così tanto di recente Che Oh che due coglioni Fanculo Questo qui Che casta tutte le magie Del caso Ma oh ma cos'è Cantina di merda C'è che vuoi che non ti stavo nemmeno calcolando Maledetta Ahi No 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 La frenesia Pericolosa Pericolosa In realtà anche abbastanza importante Il fatto che causi frenesia No Ok Il fatto che causi frenesia Quella mossa C'è Queste piante Strano Il fiume Heinzel È vicino A un luogo di frenesia Potrebbe nascondere dei brutti segreti Il fiume Heinzel Perché Uomini d'argilla Eh Loro non devono essere mali Secondo me Perché Comunque Che paura Che mi ha fatto Ehi Ok Ancora qui sei Mamma mia Che palle Comunque È una cosa bellissima Il fatto che ormai Non esista più nessun Ehi No La frenesia Ok Vabbè senti Lasciamo perdere È una cosa bellissima Il fatto che non esista più In nessun modo La rottura dell'equipaggiamento Adesso Perché non Si evitano Tante di quelle Di quelle bastardate Veramente Assurde Che bastardi comunque Hanno messo il messaggio lì Adesso è impossibile Raccogliere quei materi Vabbè Quanto sono lucciole d'argento Niente ti credo Però Vabbè Ok Una bella runa aurea Allora Allora Ok Ho paura che ci sia un boss Molto vicino Molto vicino A questa posizione Onestamente Per come scende Qui Oh no Di nuovo Spero che le condiglianze Siano per queste robe qua Perché Doverle rincontrare di nuovo È perdicchiante Mamma mia Che schifo Che fanno Dai Dai Cristo santa Ma che schifo Dai ma fanno Oddio Pure con le ali Ma che schifo è Ma che schifo sei tu E' una discarica Ma una discarica Di incubi Ma addirittura Così La madonna Tanto Quanti danni Eh sì Vabbè Ma te lo toglie Un voto di vita E' in un nido E ti stai avvicinando Al furfo Zitto Formiche giganti volanti Sai cosa significa No Non lo sapevo Adesso lo so Quindi al boss Credo No Il boss Non può essere Una formica Prova a groppa Ma che schifo Fate schifo Mi scopereste pure Le formiche Vergognatevi Prova a groppa Ma io boh Ok Stanza magica No Stella Ah Così proprio Una città eterna Dietro l'altra La chiave Va in basso Più va in basso Più sono potenti Ho capito Ok Un attimo Cioè Nox Cioè Abbiamo trovato Nocron E poi Noxtella Subito dopo Ok E' un caso Fortuito Assurdo Comunque Mi sento molto Non so De sentirmi soddisfatto Di questa esplorazione Perché è molto Monotematico Come cosa Quindi ci sta Oppure se è semplicemente Normale Non lo so Devo sentirmi soddisfatto Ragazzi Perché Asserting dominance Cosa sta facendo Vabbè Di solito sono Come una Portage Poi le volanti Che sono le regine Ho capito Bello Grande trivia Grazie per il trivia Che cos'era Questa imboscata Scusami L'imboscata Era lui Che mi guardava Da lontano E mi Mi minacciava Con lo sguardo Questa La grande imboscata Vabbè Ok Vabbè Certo Chiaro Che siamo qui Solo avessi cane Ma Facciamo vedere Non voglio sapere Forse il cavallo Ah merda Eh si No Sono stupido Sono cascato Mi sa Merda Perché mi sono fatto Incastare Ah no Però c'è uno scrigno Lì Attenzione Attenzione Ragazzi Non tutto quello Che è perduto E poi Dopo la DMG Ok Niente Oggi mi va di parlare Così Vabbè Così Ala di Astel Guarda Ma esistono Spade dritte In sto gioco Ma soprattutto Esistono armi Che non scalano Su intelligenza Spada curva Ok Va bene No comunque Ovviamente ragazzi C'è troppe armi Che scalano Su intelligenza Adesso a parte Le cazzate È una cosa Stupidissima Siamo a 72 ore Di gioco Tipo E ancora Non E ancora Non abbiamo trovato Cioè Non abbiamo trovato Quasi per niente Armi che non Scalano su intelligenza E quelle poche Che non scalano Su intelligenza Scalano su Fede O su Arcano Raga ma che cazzo è Cioè ma cosa vuol dire Nice Un'altra Ok Boh Proprio Per me è proprio Una cazzata Perché È vero che puoi fare L'affinità Ma diventano più deboli Con l'affinità Cioè se tu cambi La loro proprietà principale Comunque non tutte Possono essere cambiate Quindi Boh Sono abbastanza Deluso Da questo punto di vista E Cioè È stranamente Tanto sbilanciato Da questo punto di vista Il co Il gioco Boh Non riesco proprio a capirlo Non devo essere intelligente O credente Per fare swing swing Di squarto No 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 È quello il punto Il fatto è che Ci sta che tu metta delle armi Infatti all'inizio L'apprezzavo Ci sta che ci metti Delle armi Che scalano su Alcune caratteristiche Appunto Così Ma letteralmente Tutte le armi Vabbè Adesso facciamo un attimo Un veloce showcase Ragazzi Per farvi capire Comunque mi ricordo Un po' il santuario Di amana Questa roba qui Per farvi un attimo Uno showcase Allora Abbiamo Armi Che Allora Facciamo il conto Delle armi Che scalano su intelligenza O fede O arca No vabbè Dai solo su intelligenza Facciamo i buoni Uno Due Questo è scalato arca Tre Quattro Comunque è sarcano Cinque Sei Sette Otto Saranno Questa non è scalato Intelligente 9 Questa Pede Vabbè Dieci Undici Due catane Tra l'altro Abbiamo trovato Tre catane In tutto il gioco Di cui 22 Scalano su intelligenza Eravamo 12 Questa è 13 Ok Questa è arcano Ok arcano Questa non scala Su intelligenza Questa richiede Intelligenza Non scala Vabbè Si può dire Che in realtà Scali Vabbè Poi ci sono i bastoni Che ci sta E comunque Sono tantissimi Cioè raga Guardate il numero Di bastoni Che abbiamo raccolto Rispetto E questi duplicati Ce ne sono soltanto Due Qui in mezzo Guardate il numero Di bastoni raccolti Rispetto a tutti Tutti gli altri Tipi di armi Cioè Guardate qua Abbiamo Tipo Tra le armi Più numerose Abbiamo Le spade dritte Di cui tra l'altro Sono Tipo Ah ma che mai Ah si è il gioco Di cui abbiamo tipo Tre duplicati Mi sembra Si tre duplicati Perché altrimenti Ce ne sarebbe Allora senza i duplicati Sono uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Ok Spade dritte Di bastoni Ne abbiamo Senza contare i duplicati Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Abbiamo Dieci bastoni Catalizzatori Quelli lì per No Questi Sono appunto Per gli incantesimi Tre In tutto il gioco Tre Contro dieci Bastoni Cioè per le stregonerie Di tutto Per Il cantante Tre Scudi E abbiamo avuti Relativamente In realtà Diversi Si ci può stare Ci sta Sei Sei piccoli Diversi medi E alcuni grandi Ma ragazzi Ma ci rendiamo conto Di quante cazzo Di armi magiche Su intelligenza Ci sono No Mica c'è qualcuno In groppa Qualcosa No Sto vedendo male Io Vero Sono allucinato Io Devo essere allucinato Io No No Ma c'è davvero La gente in groppa Oh santo dio Oh santo dio Cavalcatori di formiche Ecco perché prova Groppa Adesso ho capito Io non posso nemmeno Usare il mio cavallo Qui Ho paura Ho molta paura Madonna C'è un ciuffo Che è scappato Dalla mia Dal mio frontino Che adesso mi sta Uccidendo Davanti agli occhi Faffanculo Aspettando un secondo Non fate caso I miei capelli sciolti Ecco qua Ora oltre che Oltre che un frontino Utilizzo Me li leggo anche dietro Quindi Non lo posso Totalmente Totalmente diciamo Bestia Come si dice Bestia Tenuta sotto controllo Sotto Sotto freno Perché altrimenti Ah ok Questo è per tornare indietro Nice Nice Comunque Cioè adesso Per elogiare un attimo Il The Ring Questo è buono Il level design Ossia anche Con i teleport rapidi Metti comunque Una via per tornare indietro In certi casi Mica come Dark Souls 2 Che con la scusa Della piuma antica Che si doveva ottenere In quel punto Metteva certi luoghi Dove era impossibile Tornare indietro Maffa mia Che merda Vabbè Questo era giusto Per dire un po' A Dark Souls 2 Qualcosina Che se le merita Eh ogni tanto Le bastonate Dark Souls 2 No no Ci andiamo dopo O forse no No ci andiamo prima Ci andiamo ora È più giusto andarci ora Ciao Ma che sono molto carine Le vostre armature Sapete Sono molto molto carine I personaggi femminili Non ce le vedo Per niente male Ah stai buono Ehi Quanto forte Ah no Ecco perché l'ho presa Di strisce Mi piace Non riesco No eh Non è un baule Semplicemente Ma Questo è un baule No ma guarda Che twist Mascheratissimo Scudo Mirmecofilo Ah beh È la testa Di quei cosi Tremendi Praticamente Sì Testa di una Delle formiche giganti Che dimorano Nei due fiumi Ipogei Può essere impugnata Come scudo Senza necessità Di apportare modifiche Le spinge D'attacchi nemici Con facilità Le formiche giganti Sono creature velenose Di conseguenza L'uso di questo scudo Incrementa l'immunità Non ha senso Però Ok Beh ci sta Bello 28 a forza È uno stato pesante Vabbè giustamente Bisogna fare attenzione Sempre alle 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 forme Di questi Di questi contenitori Perché appunto Alcuni sono screen Altri invece sono Contenitori normali Solo che è difficile Distinguere alle volte Quindi Attenzione ragazzi Lo dico per voi Non perché io mi distragga Io sono Assolutamente Sicurissimo Di quello che faccio Ehi Ciao Cos'è Voi esplodete In un turbinio Di pulmini Oh lo fate davvero Stavo scherzando Invece lo fanno davvero Una reazione a catena Interessante Grazie per le anime Nel dubbio Vabbè Arrivederci Prova a affrontare Una volta E poi A vista splendida Esatto Che Quello che succede È praticamente Quello Ciao Anche voi esplodete No Voi avete discuti Voi siete le vere E proprie falangi Che belle Che siete Mi mancate Era da troppo tempo Che non c'eravate Dai Io vi apprezzo Perché adoro Demon's Souls Quindi vi va bene Questo Un momento Democristiano Un attimo Allora Siamo Ololodo No Sbagliato Cosa ho aperto Internet Cos'è Internet Non esiste Ok Vai Pom Dieci minuti Democristianizzare No Vai a Cagare Ok Si può dire Vai a cagare Dai Ok Nice Questa Questa forse Fina al più 6 Non è male Non è male davvero Comunque Adesso A parte le cazzate Cavolate 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 A parte le cavolate Eh si Fina al più 6 Non male Non male davvero Stiamo Trovando tutti i materiali Per potenziare Le spiriti È tutta una live Spiritica Cavanti oggetto Grazie Cavanti oggetto Grazie Guarda oggetto Grazie Cenere di arcieri Ah ok Vabbè Le arcieri Oblivlitz Non si dice cagare Si dice Iaculare Dal Dal Del Diretano No Veramente È molto più volgare Quello Penso Che cagare Però Comunque Perché Cosa cazzo Vuol dire Cioè No Cosa cavolo Vuol dire Ovviamente No Scusate Scappato Allora Massimo Defecare Se proprio Vuoi Però Ah No Così Dove Controllare Ah si Le ceneri Ok Vabbè Si È sempre La stessa Descrizione Praticamente Non c'è molto Altro Da sapere Di loro Poi Guarda Questi Specchi Di Cazza Ok Il fatto Però Che utilizzino Le falangi Come dei nemici Come Le 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 melme Del cavolo Non mi piace Eh Le falangi Sono molto più Di quello Smettetela Di trattarle Come dei nemici Qualunque Sono speciali Le falangi I falangini Diciamo così Ok Credo Che non Dovrei Essere qui Onestamente Però Ok Un bellino Questo mi piace Molto Come luogo Per esempio Molto più bello Di Nocron Nocstella È proprio Una bella È tutto lucido È tutto Incredibilmente Tipo palazzo Di cristallo È molto bello Da vedere Oh no Perché c'è una Palla che gira Lì Eh Pensavate Che fosse Stupido D'altro Loro Sono Esatto Sono Monaci Di Noc Sono Uomini Ci viene Dall'armatura Anche perché L'armatura Delle donne È veramente Veramente Carina Quindi Ah Allora Questa è Una cesta Ok Io attacco Qualsiasi cosa Perché Per riconoscerla Pantocci di vergine Spadaccina Ah Ok Non male Non male Attenzione Allora quanti Quante ceneri ci sono Madonna È un peccato Veramente non utilizzarle Ve lo giuro Perché sembrano Veramente Veramente Fighe Per quante ce ne sono Dove Dove sono Non le trovo Pantocci di vergine Spadaccina Pantocci di vergine Spadaccina Pantocci di vergine Spadaccina Pantocci di vergine Spadaccina Non le vedo Non le vedo Ah Ah sono 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 Pantocci Non c'ho Non sono ceni Un vecchio Pantoccio Creato nella città Eterna Usalo per i cuori Gli spiriti Di una vergine Di una spadaccina Queste due sorelle Appartenenti A una razza spietata Che brandisci armi sinuose Divennero Fantocci Per loro stessa volontà Non ceneri Ma fantocci Che hanno lo stesso Utilizzo e cose Ma sono Fantocci In questo caso Ok Molto Strano Anche inquietanto Se si può dire Ehi tu Ecco lo sapevo Lo sapevo Ti conosco Ti conosco Maledetto Che dolore Questa fa molto più male Sono morto Dai Vabbè ma non è giusto Così scusami Levati Attenzione Luogo per uscire La easy Capiamo Sì Mi sa di sì Safe spot Safe spot Guys Safe spot Found Eh Mi dispiace Non puoi fare niente Ha 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 Ok Nice Facrima di là Mi sa se si può parare Non penso Si possa parare La sua carica È letteralmente Una sfera Che ti viene addosso Cioè Puoi pure Non andare a pararla Ma Non penso Che serva a molto Allora Comunque ero convinto Che A un certo punto Si scendesse Ma Quanto pare No Quindi Vabbè Aspetterò Mi esplorerò Dopo Quello che c'è sotto Perché ero convinto Che a una certa Comunque si dovesse scendere Che non si collegassero Tramite un ponte Le due Zone Ma invece Quanto pare Lo fanno E anzi Questa è la strada Più che giusta Sì Ma sei serio Sei serio Sei serio Sei serio Il gioco Dove Ma Vabbè Ma Che cosa Vabbè Ma io Non so come reagire A queste cose Sinceramente Ah però Ah però Posso fermare Attenzione Con un colpo ben assestato Si ferma Allora Molto più vulnerabile Di quello che sembra Che è strano Però Si ferma Ah un'altra Madonna E sono tre Sono già tre spiriti Da poter fare A più dieci Oddio In realtà no Perché Credo che Quelle da otto e da nove Non le abbiamo ancora Trovate Con Valerii spettrali Ma Per il resto Not bad Not bad Comunque Togliamo questa toscia Che tanto non ci serve Facciamo anche un po' di Ambient Dato che La normale Illuminazione L'illuminazione Di quelle lanterne È terribile A livello proprio Del personaggio Cioè toglie qualsiasi Effetto di lighting Decente Che ci fosse Su di esso Un'altra Un'aurea Dieci Questa zona È veramente Avanzata Tanta roba Non mi fido Di quella stanza Anche perché Nessuno Tiene le porte Aperte In questo modo Anche se Effettivamente In Elden Ring C'è da dire Che si aprono Decisamente Meno porti Di tutti gli altri Souls Di solito Le porte Sono aperte O non ci sono Oppure Non sono interagibili Se ci sono Quindi Sono poche Le porte Che si aprono Davvero In questo gioco È un fatto Bizzarro Ma vero Chissà perché C'è avanti Schiena Oh yes Allora Eh vedi Però lui è uscito Quindi Eh infatti Vedi c'è una palla Lì Vabbè Chiaro no? Chiaro segnale Di come vadano le cose Ah no 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 Non sono Ah no 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 Attenzione Attenzione Sono dei Ah no C'è anche Quella Ok Vai vai Divertitevi It's free real estate Comunque Guarda quante Quante rune si fanno Questo è un farming Velocissimo Vorrei dire Ma Ma te ne escono Ma te ne escono Ma te ne escono infinite Addirittura Scudo Esplosive Prima di te che dimmi Ti giochiamo in modo epico Mi rimastino l'apico Oh oh Eccoli È arrivato il boss finale È incazzato Ah Vabbè Ma ragazzi Questo è il luogo di farming totale Abbiamo fatto 10.000 rune Senza fare nulla Questo è il luogo di farming Farming totale Ah non Non esplodi tu Ah Ora esplodi Vabbè Vabbè Ok Pazzesco Pazzesco Comunque Sì vabbè Oltre a quello Non c'è stato molto A7 Eh Ok no Mi sembra che ci serve Ancora quella da 8 Sì Forse quella Abbiamo quella da 9 Mi sembra non quella da 8 Quindi Paura In questo luogo In questo pond In questo pond Oh Finito il momento democristiano Si può bestemmiare No Ehi 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 Where are you going Where are you going Where are you going Ok Ok Vabbè Ho tenuto un drop migliore Un attimo fa Però ok Ah no Ok Non è ancora boss Beh Almeno non sembra Magari lo è Un mini boss Tipo Palangini E palangiti Cazzi e baffi Come si suol dire Una cattedrale Una chiesa O quello che è Insomma Ah Due mimictiere Mimictiere Sono intanto morto Ehi 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 No Porca mestola Vaffanculo Ha rollato male Perché stavo Loccando un nemico E quindi ha rollato Contro di lui Ma dovevo rollare Dall'altra parte Vaffanculo Vabbè No Bello è che c'è un botto In realtà di rune Di là Quindi non è che voglio Proverderle Vabbè Senti Facciamo così Tutto Non mai avete capito Qual è l'andazzo Ragazzi Ho intenzione Di utilizzare Queste sette rune Ora che le conosco Allora Vorrei provare Ad esplorare qua sotto Perché comunque Di tornare là È un po' una rottura Quindi Vorrei esplorare qua sotto Già che ci sono Cercando di non morire Perché comunque abbiamo Un po' di rune Là sopra Quindi Potrebbe Non essere La più saggia Delle cose Non di ora Bello Da sdraiati Non sapevo ci fossero Invece Quanto pare Carino Ma perché non posso Usare il cavallo Qui Madonna 20 km Di nulla Devo esplorare Ciao Ciao È rimasto È rimasto veramente male Ahia Beh Ahia Bellissimo Sono tipo Doppio scudo Di Di catarina Bello Bello Ok Oh yes Un'altra Dai Siamo vicini Al più Al più 17 Piano piano Arriviamo al più 17 Con la spada lunga Di qualità Qualità Sempre Allora Più avanti oggetto Più avanti oggetto Oggetto necessario Addirittura Più avanti Materiale Più avanti Ah ok Allora aspetta Ho capito già Cosa potrebbe essere È oggetto necessario Ma va Vabbè Non era così necessario Ci sono Giuro Vabbè Giurello A chi lo do Questo porcello Niente Oggi sono così Ragazzi Mi dovete sopportare Cos'è quello Ah sono Schifo Ok Sono dei falangi Senza scuola Allora Pa 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 Qua c'è San Bernardo In realtà Non ironicamente Potrebbe essere carino Se Con la versione Da uomo Ah Attenzione Vediamo un po' Se Magari Anche quello No Quella da donna Non ci sta Perché Invocarono L'ira Della volontà Superiore Furono esiliati Nelle cesti Del sottosuolo Ora vivono Sotto un falso Ceno notturno Nell'eterna Appesa Del loro signore Auspicando Che sorga L'era delle stelle E si presenti Il lord Della notte Magima Stanno aspettando Il lord Della notte Magima Il macellaio Umbro Se mi interessa C'è stato Un vero Un macellaio Che nella mia vita Ha minacciato Di tagliarmi Il pisello Non ironicamente O comunque Se era ironicamente Era un'ironia Molto particolare Ma giusto In acqua Queste esplosioni Potrebbero fare Molto male Aia Quanti mi hanno colpito In quanti mi hanno colpito Scusami Ah ok Era solo uno Godo Godo Esploso Completamente Ok Aia Aspetta Vieni qua Un duello leale No? Vabbè Figurati Ma fai a morire Che belli che sono Non posso dire Che mi fanno schifo Sinceramente Non ci riesco Mi rievocano Così tanti ricordi Allora dai Qui è il momento Di cominciare Una reazione A catena Che Ole Adari Che belli Oddio Pensavo non esplodessi Anche da lui Invece Arrivava anche da lui Ma comunque Sono velocissimi A sparare E ci sta Che siano pericolosi Per alcuni Sono molto più forti Di quelli di demons Chiaramente Santori Uuuuh E si ragazzi Un'attuale Niente Non si capisce Dove siamo Ma secondo me Non siamo qui Sul corso del fiume Heinzel Secondo me Siamo sul fiume Dai No No Fa morire Ha cambiato mille volte L'aria Ma che cazzo di problemi ha Vabbè Allora 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 Scusate Dico che la scossa Si propaga in acqua C'è sempre stato Ovviamente Però Sì sì È una cosa molto carina Ma è dai tempi di Dark Souls 1 Che c'è questa roba Vai Adesso siamo nel fiume Sembra giusto No Vai Usciamo Corso del fiume Fa morire Ma che cazzo Ma perché Ma mi sembra che siamo sul fiume Ora no Non più sul corso del fiume O mi sbaglio Ma forse mi Oh basta Damene più 7 Datemene più 8 Porca troia Ma che ce n'è ancora Oh Quanti ne devono morire ancora Non me ne ho accorto Vabbè Mi è appena uscita la notizia Che uno ha finito Da tutto Sanno solo gli escrementi Ero tipo Ok Come fai tra l'altro Ci sono dei boss Che possono subire Tutti i boss Possono subire La tossicità È possibile Ma mi sembra strano Che tutti tutti Possano subirla Vabbè Comunque Poi dall'altro Gli escrementi Fanno subire Tossicità Anche a te Quindi In realtà È dura Farsela con gli escrementi Però si Diciamo che Comunicano Metterlo come notizie Proprio triste No perché Ho fatto un errore Ok Un'altra Vabbè Ciao Ah no Aspetta Ma questi sono spettrali Sepolcrali Vabbè se non sbaglio Spettrali è comunque Quello che mi servono Che le sepolcrali Se non ero Sono quelle degli spiriti speciali Mentre Maronna Ok È vero che c'è Questa piccola differenza Che È minuscola Ma importante Quindi Non è da dimenticare Basta ragazzi Basta Dai Tomate a casa Ehi No ehi Mamma mia Quanto danno Dio santo Un altro seme d'oro Quello ci aiuterà ad arrivare a 11 ampolle Finalmente Dopo una vita Che ne avevamo 10 Non che mi servano In realtà Per carità Cioè Una in più Non mi cambia la vita Anche perché raramente Le stiamo finendo adesso Però Comunque Schifo non fa Non si butta Più avanti Non troverai oggetto Niente Io ci voglio andare comunque Ok ci sono andato Niente Non c'era nulla Non c'era nulla per davvero Ci sono rimasto male Ho pianto E sono andato via Allora 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 Credo che sotto Non ci sia nulla Vero? No no C'è qualcosina ancora di là È ancora presto Per dirla Per darla vinta al gioco Vincere contro il gioco Aia Non si sa come ho preso solo lui Facendo l'attacco Con l'attacco lì Ma Pim 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 Immagino il framerate Comunque su PS4 Di ste robe Che Deve essere scandaloso Vederle tutte quante Completamente fluide È una meraviglia Sempre PS4 players Ditemi un po' Com'è l'esperienza Del The Ring Del The Ring Experience Davanti non troverai oggetto Vabbè ma io le ammazzo comunque Perché mi stanno sul cazzo Fanno oggettivamente schifo Penso che morirò Penso che morirò E perderò tante rune E ricordiamoci che di sopra Ho tante rune da prendere Quindi Non dovrei morire Però Questi sono stronzi Ok Non farlo Ok Ok Ma siamo sicuri Che non ci sia nulla di nulla Ma a me quello sembra un sentierino In realtà No Non c'è davvero niente di niente Ok Quindi L'esplorazione di sopra Di sotto è finita Mi sembra di vedere Non mi sembra che ci sia nient'altro Ok Va bene dai Siamo riusciti nel nostro intento Di esplorare qua sotto Ora Dobbiamo fare un'altra cosa Che non è così tanto semplice Ossia Tornare di sopra per bene Che non è per niente facile Dato che C'era tanta roba Vabbè non tantissima in realtà Però C'era diversa roba Quindi Dobbiamo stare molto attenti Perché un errore E Siamo un punto da cazzo Ah no Attenzione Qui c'è una Attenzione Qui c'è una Attenzione Attenzione Oh No Non devi scendere No 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 Where are you going No 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 Dove mi sta portando questo ascensore Dopo aver dimensato L'intera popolazione del fiume Ma che cazzo ne frega Tanto Gente esiliata Ancora ancora I tizi Degli spiriti Un po' mi facevano pena Ma loro E qui dove siamo invece Vabbè Torniamo di sopra per ora Ho bisogno di Di riprendermi le rune Volendo potrei anche Equipaggiare un ramoscello Sacrificale Giusto per sicurezza Boh vabbè Per ora no No vabbè No no Anche perché in realtà Non ci garantisce Che le rune Che abbiamo perso Rimangano lì Ci garantisce soltanto Che non le perdiamo Qualora ce le avessimo Con noi alla morte Due cose diverse Esploriamola dopo Questa zona Metti caso c'è un boss Che ti fa il culo E ti fa perdere tutto Esatto Esatto Infatti ho acceso la grazia Perché comunque Pagino della cascata Di non Bello Ho acceso la grazia Perché comunque ci serviva Ma Cioè ci serviva Per completezza Anche perché così Ci possiamo raggiungere Rapidamente dopo Quel luogo Però Credo di dove andare A fare una grandissima Pisciata Però non so Se è sicuro fermarsi Spero di sì Incrociate le dita Io vado a pisciare E' sicuro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho ballato, diventato una cosa. Grazie a tutti. 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 non avevamo anche, eh esatto, del regale antenato, ecco, proviamo a leggere un po' questa cosa il potere che racchiude può essere sblocato, il culto degli spiriti ancestrali è considerato estraneo all'albero madre la vita scaturisce dalla morte quanto dalla nascita, è nell'ordine delle cose vabbè, una frase che non dice nulla, come al solito vuole bene a Miyazaki però, queste frasi non hanno senso beh, prendono il tempo che trova un mio assorbi vita, ma da guarda ho questo genere di guerra, scusami bellissimo e praticamente è l'abilità di Dark Wraith comunque non ho idea di cosa sia la luna di Robox non lo so però posso ogni volta metterci mezz'ora a trovare un oggetto io, eh non lo trovo ragazzi, non penso che sia l'unica, l'ultima cosa che mi viene in mente è un elmo, ma dubito ah, se è dorato è per forza... ah, forse oddio potrebbe essere un amuleto, un talismano o quello che è eh, infatti aumenta l'islotto, ok questo talismano rappresenta la luna nera perduta, la luna di Noxtella è stata la guida di numerosi astri Dario Talismano è considerato un tesoro di Noxtella, ok va bene, nice allora, quindi, detto questo, detto questo, detto questo abbiamo la via di qua, giusto? di là non mi sembra che ci sia nulla, quindi sì abbiamo la via di qua let's go attenzione, abbiamo un piccolo sensorino, forse sì, mi sembra che ci sia un ascensore là dentro un altro ascensore, tra l'altro sbucheremo da un'altra parte della stessa area è interessante scoprirlo mi sa di sì ah no, ok ah, nice, nice, nice tutto si collega, giustamente noise, noise, noise allora, un po' di luce per le anime perdute offre escrementi, no no, no allora, anche perché credo non si possono nemmeno usare sto gioco con le escrementi, quindi esistono ma non sono come oggetti consumati, credo ole seme d'oro e siamo a 11 ampolle al più 8 which is not bad if you think about it mmm, basta penso non ci sia più nient'altro qua in realtà e qui si scende e si tornerà alla solita roba ok credo possiamo tranquillamente trasportarci alla grazia di sotto senza nessun problema o rimorso ok let's go timpidim timpidim mamma mia ragazzi che bello oggi proprio stiamo andando spediti, eh stiamo andando spediti dei mostri dei mostri no dai mi aspettavo un boss formica eh, magari adesso c'è guarda che continuo, eh la cavernina va, io direi di mettere ancora un po' su destressa sì, direi di pompare fino al 35 almeno su destrezza poi vediamo credo che sia il momento di è arrivato il momento di livellare anche un'altra caratteristica per onestamente l'è un'altra con valeria 9 inchia ma secondo me un boss formica non è grandioso, eh nel senso che se proprio lo mettono non mi sembra il massimo vedremo magari ci sarà un tizio a cavallo di una formica non si sa mai potrebbe essere, eh potrebbe esserci un tizio a cavallo di una formica magari cosa del genere tizio che evoca formiche tizio che mangia la formica, no? non so perché dovrebbe essere ok credo che ci stiamo avvicinando a una boss vai, decisamente manca perché questo oh ok, sono tornati loro va bene era da un po' che non li vedevamo tra l'altro, eh sono pericolosi molto di più di prima oh oh porca merda seriamente problematico affrontarli, eh mi sa che me ne vado eh, sì, sì, me ne vado fanculo ma datemi delle 6, cazzo davanti, triste oh, 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 oh no, 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 eh questo è quest'area rossa si respira siamo vicino a Villa Vulcano, forse no, siamo sotto Livornia ancora davanti il tradimento vabbè qualsiasi cosa voglia dire forse perché la porta non è sembra interagibile ma non lo è naturalmente intende qui ok, un altro ascensore si sale ancora? cioè, si sale si sale o si scende? si scende ancora? stiamo entrando nel nucleo della terra, ragazzi mi sa che raggiungemo le paludi eh, lo sapevo porca puttana, ok ok che poi dico porca puttana più che altro perché non so se è il lago crescente non so se preoccuparmi o meno di questo luogo, ma suppongo di sì nemmeno il memento di persona vabbè li scendono in realtà un bel po' no, quest'acqua fa male non abbiamo l'utilizzo del cavallo io ho paura di quello che può fare quest'acqua acqua questo liquido tremendo quanto è grosso questo spazio nooo no, che lago incandescente è molto peggio no, come marcescenza ma sto senza cavallo mi fate andare in un luogo del genere senza cavallo ma come? ma voi siete pazzi? cos'è l'immunità di preciso? non lo so non riesco a capire cosa sia l'immunità ah ok sì l'accumulo di veleni allora utilizziamolo via minchia porca troia un bel po' l'immunità ok allora aspettiamo che finisca la roba perché se no non vado ad andare a piedi non possiamo andare con il cavallo ragazzi è per quello che mi sto impanicando capite? non ci non si può proprio andare a cavallo no, vabbè oh dio oh dio oh dio oh dio ok eh almeno perché la furgiatura funerea 8 è molto buona perché vuol dire che possiamo arrivare con l'alabarda più 8 dai siamo quasi al più 10 con l'alabarda not bad not bad mi auguro appena ogni volta che sono a metà a vita vabbè almeno non rallenta l'acqua eh almeno non rallenta quindi qualche vantaggio c'è però il fatto è che la nostra le nostre esplorazioni possono essere limitate speriamo di poterci trasportare sì ok ci si potrebbe trasportare meno male no eh anche voi no eh non dovete cagare il cazzo con gli effetti di stato non dovete cagare il cazzo vaffanculo non vi affronterò mai se mi rompete il cazzo non vi affronto ho tempo limitato praticamente per esplorare questa palude oh chi è quello no non mi dire che no non può esserci un miniboss qua sotto ragazzi se mettono un miniboss qui è la fine è la fine io ve lo dico è la fine se mettono un miniboss qui è la fine la due punti fine non ha nessun senso grammaticale questa cosa cos'è quello madonna santa lasciatemi in pace allora aspetta devo evitare l'aggro di quelle bestie ok aggro eliminato ok torniamo alla grazia qui bisogna giocare di cautela bisogna fare un pezzettino minuscolo al pezzettino minuscolo vabbè perché non ti avvicini e lo scopri un attimo allora anzitutto ampolle aggiungiamo una bella carichina all'ampolla dai poi 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 balsamo oddio ci sono noti qualche balsamo forse si eh anche ripristine i pipì per un periodo non è male tutte le resistenze la fede l'intelligenza la presenza di coprile di vigore c'è qualcosa che aumenta della resistenza alla marcescenza il cazzo il cazzo vabbè e proviamo magari questo ah no ogni forma di resistenza ai danni non è una forma di resistenza di status però quindi passettino minuscolo passettino minuscolo passettino minuscolo vabbè magari un po' meno non so perché il bot non so come abbia fatto tu a deludere il bot tra l'altro scrivendo questo ma ok un po' meno eh attenzione allora torniamo un attimo indietro ragazzi perché ci sono dei potenziamentini da fare e li voglio fare ora prima che ti è ti è un cazzo comunque ho sempre il potere di bannarti io personalmente quindi puoi eludere puoi eludere un robot ma non puoi eludere la mia mano umana allora via più sette più otto più nove mamma mia uh siamo quasi al massimo dell'alabarda del drago eh nice pietra da forciatura funeria draconica e mi sa che possiamo fare anche la spada dritta in realtà al più nove più sei più sette più otto no più nove ok ne avevamo solo uno daie daie eh ci manca soltanto una per quella vabbè nice 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 allora roderica tesoro allora ok come non ho non ho da sette ma sei serio cioè ne ho avute ne ho ottenute da otto da nove da dieci non ho da sette ah vabbè that's pretty sad vabbè mmm io non lo so se potenziare questa cosa perché il fatto è che è fortissimo cioè appunto no si è detto che è fortissima quindi ho paura un po' a potenziarla perché non vorrei tanto costa un ultimo di tutte le altre mmm beh ragazzi tanto le cene dei spertrali cioè senso si vive una volta sola quindi tanto vale utilizzarle le abbiamo ottenute che faccio non le uso non ho abbastanza rune aspetta utilizziamo vai scoppiamo una no forse una di queste non è il caso scoppiamo qua 5 di queste via ma quanti livelli possiamo fare quanti livelli possiamo fare con quelle robe lì ah ok ah non ne abbiamo da 5 ok vabbè va benissimo così ok potenzialmente potremmo fare un botto di livelli comunque mamma mia questo cos'è è una zona interna a questo vabbè lo scopriremo a breve tanto oggi è l'episodio sotterraneo praticamente qual è stata l'ultima live in cui avevamo fatto appunto per la prima volta si offre il lago si offre è stata la settima se non erro qualcosa del genere è stata circa poco più di una settimana fa quindi si dovrebbe essere più di una settima allora allora ora dato che serve a poco e nulla io provo a utilizzare questi perché comunque riducono anche l'accumulo oltre che curarla la secrezione cioè la si bello bella sta riduzione dell'accumulo bellissima riduzione dell'accumulo ok niente non importa pog lo so zoppato ah grasso marchi e shen aspetta che sto per morire si vabbè ma non si può combattere però in queste condizioni ragazzi cioè non possiamo fare un cazzo veramente in queste condizioni qua e adesso attiverò questa ma giusto perché mi dà un piccolo regen ma non serve a un cazzo cioè non è nulla rispetto al danno che prendiamo ma ce ne diamo conto porca troia allora mi sa che bisogna prima sbloccare tutte queste robe poi provare ad affrontare qualsiasi cosa perché eh si vedete già così si ha un piccolo spiraglio di possibilità già così si può pensare effettivamente di dire esploriamo anche se lì c'è qualcuno ah ma il mica era così lontano il tizio di prima anche quella cosa lì che non so cosa sia che mi fa molta paura ma cercherò di sbloccare il più possibile ma ovviamente appena vediamo il pericolo capiamo eh ah ma ce n'è uno anche di là poi madonna ok ce n'è uno anche di là eh ma non credo di riuscire ad arrivarci fino a lì eh no mi sono già rimaste tre ampolle quindi arrivarci davvero non penso che ci riuscirò ok va bene vedete asporto rapido che zona del cazzo comunque cioè meno male che noi abbiamo tantissima vita grazie alla runa maggiore grazie alle grove ma questa è impossibile senza oh no ho sbagliato vabbè state uguale prima o dopo cambia poco allora credo che sia quella no non è quella quella che stavo raggiungendo prima è tipo di qua andando dritto allora lì c'è un tizio ma non so chi è ma non ho tempo nemmeno di fermarmi a guardarlo quindi ah ma forse è soltanto uno spirito normale forse solo sì sì mi sembra solo uno di quei tizi con l'ascia ah sì sì è tranquillo non so se ha come fa essere immune alla marcia scienza però è tranquillissimo lui in teoria vai a cagare vai uuuuuh lo corno porta fortuna dell'immunità ecco come fa ad essere tranquillo mi sa non ti sei rifatto non ti sei rifatto le ampolle ah non scherzavo no no non me le sono rifatte ogni volta che ti trasporti automaticamente è come riposare quella che cazzo è è un golem no cos'è allora aspetta un secondo provo a decupaggiare la vabbè no non importa non ora non ora non è il tempo ma non è che ah non ok pensavo vi ricordate Dark Souls 2 la versione originale che c'erano le spine a zeldore se mettevi il gioco in pausa non ti facevano danno ok uuuuh guarda qui con questo abbiamo una vibara no porca puttana è un altro cavaliere draconico porca la merda porca la merda puttana è un cavaliere di limiere gigante no purtroppo no purtroppo il cazzo in realtà forse era pure peggio no un altro cavaliere draconico madonna io odio loro vabbè 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 si può fare si può fare niente di che non ho più paura vera di nulla e ho solo e temo ma non ho più la paura di un tempo bella merda comunque è quest'area non vorrei dire ma bella bella è carino però che ti mettono il nemico in mezzo che ti dà appunto l'oggetto utile per merda allora ora io sperate ragazzi che non ci abbiano sgamato perché se ci hanno sgamato è la fine ok vabbè che tanto se ci avevo aperto la mappa vuol dire che non ci avevo sgamato ma corona fungina che sia anche questa utile vediamo un po' che secondo me ehi ma dov'è finito il mio perché non avevo più l'emmo questi coloni di funghi formano un imponente copricavo incrementa la potenza d'attacco quando si verifica un avvelenamento una marcescenza quando si verifica cioè oddio perché potrebbe essere potentissima sta roba a dire il vero non scherzo eh ma praticamente pesa tantissimo poi penso ci porti in carico pesante no non ci porto in carico pesante no joke penso che questa roba qui ci possa veramente dare un vantaggio cioè incrementa la potenza d'attacco quando si verifica un avvelenamento una marcescenza nelle vicinanze no ma credo di no perché credo non cioè la nostra non conta quindi dubito che la nostra conti vabbè comunque ok dai abbiamo sbloccato tanta cioè diversa roba per avvicinarci quindi ora credo che tra talisman e tutto quanto dovremmo poter raggiungere tranquillamente il cavaliere senza subire la marcescenza nice vabbè i piani ben riusciti guarda quanta cioè guarda abbiamo il doppio della barra della resistenza alla marcescenza soltanto per sopravvivere a quella roba là e c'è anche degli oggetti di là però vabbè si dai le facciamo ora tanto quando le dobbiamo fare è uguale facciamo adesso e poi poi ci pensiamo poi ci andiamo dal cavaliere alla prossima al prossimo respawn diciamo così mamma mia e poi secondo me questa cosa fa pensare alla fine fa pensare a come bastava non rendere un lago o comunque sia una palude una pozza di merda con il movimento rallentato per renderla molto più fattibile perché la parte veramente brutta di certe robe era proprio quella cioè il fatto che fosse lentissimo camminarci dentro cioè voi vi ricordate per dire vabbè non so non so se qualcuno l'ha giocato ma Demon's Souls ragazzi la palude di Demon's Souls la valle dei raccolti di Demon's Souls era una rottura di cazzo incredibile lì il veleno non faceva così tanto male però era una rottura di coglioni mamma mia infinita perché perché eri lentissimo all'interno dell'acqua infatti se non sbaglio nel remix è leggermente più veloce ma non vorrei dire cazzate eh sì però in che sicura sta roba proviamo a passare comunque pensa che prenderemo la marcia scienza no ok non la prendiamo dai sì però aspettare qui era un casino eh anche poi cala super lentamente mamma mia sono super punitivi gli status alterati in questo gioco veramente tanto punitivi poi le retine non parliamo ovviamente di come le retine si rovinino a guardare tutto questo rosso così intenso così intenso da far ammalare come diceva Gascoin il nostro grandissimo Lorenzo Scattorin prendiamo ancora un po' 19.43 9.44 ci arriveremo lì prima di prendere la marcia scienza chissà lo scopriremo però immaginate che rottura di cavo io mi sa che lui se non per registrare una top dei boss non lo non lo combatterò mai più cioè non ne vale proprio la pena di combattere oh merda ok attenzione qui ci sono messavo cosa a lacrime no merda quanti sono oh cazzo 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 ma guarda quanto è pensata sta cosa ragazzi ma è un è un genio del male è un genio del male veramente ragazzi ma quanto è pensata sta roba cioè bloccarti in una piattaforma per poi e niente marcia scienza arrivata vaffanculo dai ma che stronzata ma quanto è pensata sta roba porca puttana ci voglio credere vabbè ragazzi niente dobbiamo ci curiamo ci curiamo ci curiamo la marcia scienza e poi combattiamo semplicemente tanto possiamo ancora farlo ancora un po' però cazzo questa zona è proprio infame è proprio borderline è comunque riuscita a renderla secondo me interessante comunque carina però che strano wow oh epico scontro maledetti maledetti tutti oi oi ok no 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 non t'azzardare non t'azzardare non t'azzardare no ok allora i danni eh i danni sono altissimi questo senza la runa maggiore ci b-shot eh comunque vorrei soltanto dire questo eh vabbè no raga però non si può combattere in un'area così stretta ok adesso aspettate perché mi sa che è il momento in cui il dead ring ci fa fare di nuovo i conti ci fa affrontare di nuovo la realtà perché questo in un'arena stretta non si può fare eh questo in un'arena stretta non si può fare semplicemente è impossibile farlo in un'arena così piccola dai porca troia stai scherzando vabbè spero di incastrarmi non la sua gamba come è successo con quello di Noxtella perché prega niente ci avveleniamo cioè ci marciamo pure ci marciamo ci facciamo marcire pure tutte quante le parti del corpo l'importante è che arriviamo là e poi figuriamo e oggetti che curano no non ci sono oggetti tipo benedizione divine in sto gioco vabbè utilizziamo anche questo via non so già che ci siamo anzi evocarei pure sapete cosa ragazzi mi sono rotto i coglioni cioè tanto voglio dire è lui non è che lo conosciamo quindi tanto vale evocare no vai mio prode mio prode me minchia quanti danni che fa eh però devi venire anche qui eh non è un casino guarda lo fiero che si che si dura dai però vieni anche qui no niente si sta cagando totalmente lui ok e io da qui non me ne vado perché la piattaforma è più larga quindi vabbè dovevi servire da esca non dà ok aiuto no eccoci qua devi salire ok aspetta aspetta mi voglio incastrare devo andare ad incastrarmi va arrivederci eh arrivederci merda ne no eccoci qua eccoci qua siamo morti ti curo eh guarda guarda qua eccoci qua eccoci qua no eppure vabbè se la dai la fine la fine è giunta la fine è giunta dai però levati del cazzo madonna eccoci qua si capisce un cazzo di questo scontro e non si sa perché tra l'altro sta anche salendo la marcia scienza quindi vabbè no non è vero perché siamo stati dentro o no non è giusto giusto cioè credo spero sia solo questo muori ok ok nemico potente ah vabbè giustamente siccome tutti i cavalleri draconi c'è un nemico potente spada dritta figurati ma dio cristo non ti danno una spada dritta manco a pagarle oro ma dai cazzo ma sono tutti spadoni non è possibile non è possibile poi cosa vuol dire non è possibile non è possibile se sono spadoni oppure sono spade curve tipo ma dio ma posso chiamare una katana addirittura cioè una katana credo che questo sia l'ultimo ma speriamo in cui i soldati draconi non conquistarono mai l'immortalità e perirono come palide e decrepite imitazioni dei loro simili celesti bravi coglioni non ve la meritate comunque l'immortalità allora beh ora direi che non ci rimane che andare di là quindi prendiamoci quello che dobbiamo prendere moriamo di delle morti che dobbiamo morire fegato essiccato isolante uuuu zesco allora qui non so perché abbiamo elevato questa roba qua ci servirà forse in futuro può darsi non si può non possiamo andare molto avanti in realtà con la poca marcia scienza cioè con le poche cure rimaste però vediamo un po' se si può trovare qualcosa perché è sempre marcia scienza scarlata ah e comunque adesso me lo sono ricordato voglio fare un piccolo dito medio perché a qualcuno perché quando io ho detto ieri ho detto ah vabbè dai oggi si fa una live si finisce kylid qualcuno mi ha reso in faccia eh e intanto ieri cosa abbiamo fatto finito kylid per carità non del tu non al 100% perché dovevamo fare la torre ancora però l'avevamo abbastanza finita oh credo morirò prima di rinunciare la cesta si e allora devo tornare indietro guarda quant'è rapido il build up ma non ha senso questa cosa non ha veramente senso se si vede che è fatta per essere una rottura di cazzo questa zona mamma mia non ci voglio mai più tornare ma ci dovrò tornare già lo so uno perché di sicuro alla fine di sto lago ci sarà un boss quindi se c'è un boss devo farlo e se devo farlo e devo registrarlo per la top dei boss e tutto quanto ma poi vabbè ah ammetti che c'è effettivamente un oggetto molto utile qua sotto è la fine è la fine che in realtà mi meraviglia che non ci siano demigod sotto nel sottosuolo eh per quanto con una rimembranza il la roba spettrale poteva quasi sembrare un demigod d'altronde era appunto un celestiale quindi comunque un essere che in qualche modo si no si rifà a quelli che furono i demigod però un direi anche più antico credo no perfetto va bene speriamo ne va capi allora quindi ci sono delle farfalle di cos'è c'è roba e lì vabbè non mi frega nulla non mi frega nulla guarda quanto poco cioè è talmente tanto potente la marcia senza che non riusciamo nemmeno a curarci full vita con una con un'ampolla perché subito ci viene tolta nel momento stesso in cui la stiamo ah certo un bolo dovresti darci come minimo cinque veramente vediamo qua che più che un demigod c'è un boss serio sia lo spirito ancestrale per la punta della sua anima esatto esatto oh si grazie appena avanti si eccola eccola la grazia eccola si fatemi uscire da qui non ne voglio più vedere questo luogo ok ce l'abbiamo fatta yes e morendo soltanto una volta quindi dai ormai stiamo diventando esperti expertise andiamo spediti c'è che toccare questa questa roba no non più avanti tristezza ci sarà di peggio dice dite non più avanti più che altro questa roba qui sarà esplorabile non credo sinceramente credo sia come come questa roba qua cioè non è esplorabile c'è ma non è esplorabile speriamo che non lo sia grande chiostro mardons madonna però sta cazzo di telecamera mamma mia l'odio per questa telecamera comunque è molto carino che tu debba evocare che tu debba utilizzare i bacini di evocazione per evocare le persone cioè che tu debba attivarli perché le devi anche trovare cioè di solito sono davanti a te però alcune volte sono un po' più in là quindi non rende nemmeno le evocazioni dei giocatori così tanto facili è una cosa sinceramente che apprezzo sarò onesto perché dove si scende però perché non sono uno di quelli ovviamente a cui piace l'idea che uno senza nemmeno conoscere l'area subito evoca cose cioè io è vero che rompo un po' il cazzo sta roba qui eh su un po' cazzioni perché non mi piace come cosa perché ritengo comunque che se ti fai carriare nel gioco non ha senso che tu lo giochi poi c'è in questo gioco però insomma beh quindi insomma rompo un po' il cazzo su quello però è anche vero che se proprio uno ha difficoltà guarda amante ma chi il problema è quello è che molta gente evoca sai che oggi si finisce il The Ring sì sì certo per me è proprio quello che la gente evoca senza 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 avere problemi cioè evoca perché perché basta lì va secondo me toglie tutto il senso del gioco cioè la sfida e tutto quanto quello è il peccato devo cazzo Martin il creatore di Game of Thrones comunque sbaglio per ora non si è visto nulla che sempre riconduciva a Martin no ci sono delle cose secondo me anche soltanto i dettagli di trama sono riconducibili a Martin perché a differenza di Dark Souls 3 ha decisamente meno autocitazionismo quindi Omi Azaki si è impegnato a scrivere una storia a sto giro per il per questo gioco però però non credo e Martin ha avuto un lavoro anche i nomi in realtà i nomi mi sembrano poco Miyazaki mi sembrano un po' Martin avanti mostro di là ah si è vero è uno nella mea vabbè vieni vieni e poi in realtà loro sono molto più comoditi da combattere con lo scudo sono tra i pochi nemici che preferisco ancora mettermi lì a combattere con lo scudo la spada lunga onestamente magari si avvicino non riesce a farlo un saltino merda 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 serve la marcia scienza per quella roba vabbè tanto possiamo curarci quindi tanto vale sperando che siano buoni ehi no eh no 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 voi siete pazzi voi siete pazzi voi c'avete il cazzo nel culo voi c'avete la malattia nel cervello pazzi no 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 io speravo fosse un granchio speravo fosse un cazzo di granchio per una volta per una volta ero contento di vedere quegli esseri a no a morti di merda e invece no era un drago ceruleo del cazzo è uno spirito arboreo del cazzo no ed è pure quello che infigia marcia scienza alla fine alla fine vabbè ciao però ma cos'è sta roba eh vabbè no perché mi sono avvicinato sono stupido ecco la morte mi attende la mia punizione la mia punizione per aver sbagliato stanna ti bastardo questa marcia scienza fa molto meno male o sbaglio? ahhh beh giustamente la marcia scienza all'interno del fiume cioè del lago faceva molto più male per il fatto che eravamo costantemente a contatto con essa certo allora vedi che la marcia scienza non fa così tanto male come ok cioè voi vi rendete conto che questi cosi tengono sempre un po' le d'oro cioè tu per livellare in sto cazzo di gioco hai bisogno di ammazzare quei robi ce ne diamo conto di quanto sono stronzi io li odio profondamente vabbè comunque allora io penso di poter anche disoccupaggiare adesso questo e di rimettere il mio grafo pugnale lì pugnale cremisi dell'assassino e così almeno possiamo fare i perrini e essere ricompensati per essi easy sì ragazzi scusate comunque sto giocando molto safe veramente molto mo... come scusami? va bene scusate sto giocando molto molto safe però il fatto è che non voglio perdere i benefici della luna maggiore e di conseguenza cioè o comunque sia non voglio sprecare troppe rune perché sennò poi veramente sembra che sono ossessionato quindi preferisco giocare safe e cercare di non morire mai piuttosto che... o comunque sia il meno possibile piuttosto che dovermela giocare un po' più rischiosa e perdere sempre le rune perché poi appunto sembra che non ce la faccia più senza ok? perdonatemi se gioco un po' safe però permettetemi di... permettetemi un 70 ore di gioco dove mi sono scassato il cazzo di... di giocarmela un po' più safe ora che mi sento in... in tutta la possibilità di farlo e... allora... ci sarà ancora misa da fare un po' con la marciscienza no forse no in realtà non vedo molto... molta roba ci sarà sicuro ahi 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 Oro senza contraattacchi Sono veramente fastidiosi Mi piacciono per niente Da combattere senza contraattacchi Meno male che Sto masterando Secondo me piano piano Sto imparando a masterare un po' tutti quanti Gli aspetti del Del combat system Perché alla fine contraattacchi in difesa Weapon art Un minimo le utilizzo Le schivate Con le armi la doppie lame Quindi insomma il non utilizzo dello scudo Piano piano Sento di star diventando bravo a giocare Entra nel È questa la zona in cui Eh sì è questa Ok Quindi devo farlo praticamente Ok lo farò lo farò Secondo suolo gioco Dammi il tempo di prepararmi Mentalmente anche Oltre che Guardare un po' cosa c'è qui Sembra tipo un tempio a steco questo Molto carino in realtà Vi dirò Oh Brutta stanza Trappolone O soltanto Marcia senza carota Ma amico Che vuol dire Aculeo dello scorpione Fai attenzione Vabbè Non mi sembra Vabbè Allora vediamo un po' Aculeo dello scorpione Che cos'è Vabbè sarà una Ah un pugnale Pugnale che infligge Marcia senza scarlata Strumento cerimoniale Usato dalle eretici Ricavato dalla reliquia Di una divinità esterna In esilio Non mi piace questa coda Non mi piace questa coda Secondo me stiamo andando in bocca A qualcosa di molto brutto Comunque Adesso Buttandoci dentro Quel sarcofago Non mi piace per nulla Prova a bara Ah un aspetto familiare Adesso arriviamo Alle frigida outskirts Però Di Elden Ring Basta Questo boss formica Sarà un insettoide Sicuramente Ma potrebbe non essere Una formica Speriamo di no Beh Si muove da solo Ah si Vabbè con il contrappeso In realtà non credo Dovrebbe comunque collassare A meno che non ci metti Il peso appositamente Però Eh esatto Divinità in esilio È quello che mi spaventa Almeno a livello di concetto Capito Poi Ovviamente Bisogna appunto Essere onesti Non è che mi spaventi Tantissimo L'idea di una boss fight Mi spaventa il concetto Del dichiarato Boss fight No Non è una boss fight Mi stai dicendo Che è un'area A parte che questa Mi sembra tantissimo L'area Di dove Dove ha combattito Il gran bosco Nella seconda fase Di Dark Souls 3 Non so perché No questa è un'area Da boss fight Si vede Facciamo le dita Vediamo bene Buonasera anche a lei Buongiorno Wow Sei molto bello però Devo dire Sei veramente bello Posso dire Che hanno mai fatto Un complimento prima d'ora Secondo me no Oh no Shottato Eh mi sa di sì 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 Allora Quanto è stato Draconid Avremmo dovuto morirci Con un colpo Perché non è possibile Savorire a un colpo Del genere Esatto We are Tarnest Uno scorpione Spaziale Beh sì Design Design Parlando è molto bello Ora bisogna vedere La boss fight Che design parlando È stupenda però Anche mi dire Era un bel boss Design parlando Neanche troppo Bello però Era comunque bello Bisogna stare molto attenti alle prese Perché lui le fa E quando le fa Sono molto pericolose Eh vabbè Aia Ok non è vero Non sono solo le prese La cosa pericolosa Ok Va bene va bene Ci sta Eh niente No forse non moriamo Ora ma Non moriamo No no ok È pericolosissimo A me sembra equilibrato Eh bisogna vedere un po' La presa Perché la presa È l'unica mossa Che ci shotta Quindi Per ora almeno Il resto possiamo anche Tancaro in realtà Ma la presa Shotta Con molta Molta violenza È chiamata come presa Vabbè Torniamo su questo discorso Nel senso Sì ma Bisogna comunque Impararla Fino a poterla capire Quindi non è così chiamata Bisogna imparare A capire Quando la fa Allora Forse la fa dopo Questo scoppio Perché a quanto ho capito Lui Respauna Ah no Dobbiamo cominciare Un attimo a leggerlo Perché non è così Tanto assurdo Ma Che ho molta paura Di quando apre Le zanne Secondo me Quando apre le zanne È il problema Che potrebbe fare la presa In qualsiasi momento Per quanto mi riguarda Considerando la tua forma Quindi Eccoci qua Vabbè Comunque ha un po' di Di provenienza La midir Sto stronzo Eh vabbè Eh non va bene No no Non va bene Non va bene Per niente Non riesco A avvicinarmi Molto bene Ti ho capito Però Cioè Porca troia Eh niente A far dopo ogni rispondo Ma si triggera Solo se sei vicino Dovrebbe Dovrebbe Sì A quanto ho capito Rispettiamo un bevi Finito Acqua No finita pure l'acqua Niente Non bevo Non ho nulla Il problema è capire dov'è Questa è più o meno La stessa cosa del meteorite Solo che il meteorite Ci mette più tempo ad arrivare Lui è istantaneo Quindi non è per niente Niente chiamata Come presa In poche parole Eh sì Sai quando arriverà Ma non sai Da dove arriverà Poi bisogna vedere Il suo raggio Basterà scrivere una volta Se conosciamo questo gioco L'abbiamo imparato A conoscere assieme Amici 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 Di striscia Capiremo che Non sarà così Va bene Interessante Non so No no Penso sia meglio Con l'off Non ho scritto Mosse gravitazionali Anche lui S'è la stessa Da l'altro Dovrebbe avere la meteoritica Vabbè no Puoi anche smetterla Di pirouettare in volo Non riesco nemmeno a toccarti Per piacere Eh ma ho capito Ma come ti raggiungo io Porca troia Eh Quando ti raggiungo Allora c'è la testa in alto E quando Che rottura di coglioni Dai su Ma che culo What an ass Secondo me Qui i contraattacchi In difesa Non fanno nemmeno Troppo schifo Quando fa le Le attacchi Con le Con le Come si chiamano Che le zanne Non lo so No ragazzi Il cazzo Che chiamata Quella presa Sì è inschivabile Quando Quando c'è ti è vicino È inschivabile Vaffanculo No non bevo Non rompete il cazzo Mi sembra Se lui fosse un boss Tagliato di Bloodborne Slash design Potrebbe Non si capisce un cazzo Di quello che fa un po' Ah Ok Ha spara basso Con il raggio Mi sembra molto furbo Ah il problema Sono sempre le rune Però in sta roba Perché ogni volta Recuperarle è un casino E il fatto è che Le vorrei Perché Eh certo Vabbè ho capito Te le tieni Ho capito Meglio Meglio perdere Piuttosto Piuttosto che perdere Sette Estus Cercando di stenerle Eh ma come mi allontanavo Io Eh bella domanda Non si capisce niente Di quello che fai Vabbè Dai eh Dai è forte Ma momento della verità Eh Ora in teoria Ok Sì vabbè raga Ma è veramente dura Eh Cioè perché Perché se ti prende l'esplosione Ti prende anche la presa Praticamente Quindi Non è per niente facile Da schivare con la presa Eh Potrebbe Potrebbe rovinarci Tantissimi match Quindi Cioè se lo sai E lo vedi Ok ma Se ti prende l'esplosione Anche solo per errore Alla fine Quindi è proprio Una doppia inculata Senza salsa Di soia Non so Devo dire Ok Vediamo eh Perché Per esempio No Ecco Ci fa E niente Vediamo un po' Magari ci riesce bene Comunque Speriamo Ah no Ok È rispondato lontano Aie Non mi piace questa cosa Non mi piace per niente Questa cosa Questo è Xehanort Nella fase finale Di Remind Non va bene Ok Molto migliore Della mossa di Radan Senza ombra di dubbio Quella È sorprendentemente Facile da schivare Comunque Come cosa Non Ti prego Non cambiare fase Perché Non ho voglia Vederti Cambiare fase Eh vabbè Eh dai Eh niente Avvicinamento Impossibile Va bene Un altro Di laie Ah Cacca Cacca No 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 Eh niente Adesso speriamo bene Scrociate le dita Uh che culo Che culo Ok Quindi la presa Se tu sei A una certa distanza La presa ti fa solo danno E non è nemmeno troppo Quindi dai Ci sta Ah merda Quest'anno delle meteore Da vicino Sono pericolosissime Da vicino Perfetto Dai eh Ok Ho panic rollato Ma funzionato Che madonna Ma è proprio una cazzata Da schivare quella roba lì Ok arrivederci È stato bello Ok Ci stava È stato bello Non l'ho detto Non l'ho detto a caso Ci stava Era carina come boss fight Presa un po' infame Telecamera un po' di merda Un po' Un po' troppo di merda Però ci stava Di per sé Almeno Per quando ci sono arrivato io Se ci aprivi un po' prima Potrebbe essere un bel problema Neanche lui era un demigod Però era una leggenda Esatto Legend si può dire No Vabbè Cazzate a parte Allora Vediamo un po' Le sue rimembranze Ci sta E il design Mi piace particolarmente Però di lui Nastro deforme Generato nella più remota oscurità Un tempo Cancellò una città eterna Privandola del firmamento Una stella cadente Che rega in fausti presagi Oh Neanche lui raggiungerà mai Il mitico Mastino Mastino Arrico per noi Un anello del giuramento? Cos'è un anello del giuramento? A parte che schifo Di cgpeg è Questa barriera Ma poi Cos'è un anello del giuramento? No Non parliamo di alieni Non penso Perché non ha parlato Di marcia scienza Infatti lui non la infliggeva Mi sembra strano Oddio potrebbe No no Non penso Se vuoi ti dico Mottenello Però non credo Tu voglia saperlo No infatti Bra Cominci a Cominci a capire Se lo otterrò Prima o poi Ok Che fare con lo spazio? No Secondo me no Non c'entra nulla Perché lui non c'entrava nulla Con la Cosa Per dirvi Quindi Lui stava letteralmente In fondo alla palude Sì ma la marcia scienza Era sopra di lui Non era lui la causa Cioè non per forza Hai missato completamente una cosa What? Mi sa Spara In modo cifrato Spara Parliamo di cose missate Mi 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 sale l'ansia Mi sale cose in un gioco che dura 70 ore E' proprio una rottura di cazzo Io ve lo dico E ho giocato a persona 5 Lì ogni cosa è missabile Praticamente 2 2 Vabbè intanto Andiamo ad esplorare questo Studio Che abbiamo questa Statua Per la quest di ranni Vabbè se deve andare avanti Allora no Magari lo troviamo qui Nell'anello di giuramento Che ne so Troviamo qua Se lo troviamo qua Facile Alimenti Fanculo Tanto Saranno oggetti Qualcosa E ragazzi vorrei pure Esplorare tutto quanto Però Qua in sto gioco Senza guida è impossibile Lo certificano anche certi dungeon Che io senza una guida Non avrei mai potuto trovare Cioè c'era una catacomba Che era letteralmente Dietro un muro invisibile Che erano rocce Ma voi siete pazzi Ma come avrei dovuto capirlo Che non c'è una singola indicazione Delle direzioni Delle catacombe E cose Ah Ho capito Interessante questo Ok Non pensavo Non ci fosse più il Ok Bello però Interessante Bene Adesso gioco Veramente bisogna giocarlo Con la guida alla mano Secondo me Ma dove cazzo sono le mie rune Una cosa che il gioco Non ti dice di fare Ma devi accorgertene tu Era stronzata allora Perché se non me ne sono accorto Io non sono distratto No Ah la posso rimuovere In qualsiasi momento È interessante C'è pure la La cazzo Per quando la rimuove Attenzione Anche io posso dirti Che hai mancato roba Ma che strano Ragazzi non rompetemi i coglioni Cioè nel senso Me la prendo con voi Però non cominciate Con sta roba Non ho voglia Ma quindi Cioè posso scendere qui Magari Sì Si ha due boss Uno del lago Uno nell'area Dove stava L'ospito ancestrale Oioioio Vabbè se è solo quello No un'altra No No Ancora No Mamma mia Che rottura di cazzo Che sei tu No Cosa cazzo Posso aver mancato Nel lago ragazzi È impossibile Che ho mancato qualcosa Ti prego Non fatemi questo Mettete E basta Dove vai? Ti butti di sotto Guarda me lo spio Me lo auguro Eh certo Foglia Eh vabbè Belli sti dai Ok Ci sta Uh 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 Attenzione Forse abbiamo durato una maschera interessante So che non è il momento migliore Per cercare Ma forse abbiamo durato qualcosa di carino Dov'è? Dov'è? Eccola No non è vero È un po' una merda in realtà Incrementa l'arcano tra l'altro No ok È un po' una merda È una merda Scherzavo Scherzavo Stavo veramente scherzando Però che non c'ero quindi Non so se l'hai fatto Ma ho paura di dirlo Perché potrebbe essere spoiler Allora Boh Se intendi la pozione per dire del mago Non l'ho data Quindi Se intendi quello Ahimè Non gliel'ho data Perché nei faili non l'ho incontrata Quindi Se intendi quello Non l'ho fatto Altro Non c'era da fare Nella quest Ho dato La roba a Ranni Ranni mi ha detto Ah grazie Grazie E basta Non c'è molto altro da dire Non ho incontrato gli altri Più che altro Perché non li ho visti Magari non li ne paraggi Ma non li ho visti Non sono andato a parlare Nemmeno con Il gigantoide Una cosa che dovresti fare Al palo Non so Parlare con Melina forse Non mi è apparsa Nessuna interazione Del genere Quindi Non penso che fosse La cosa giusta Vabbè Un tiriab Vabbè Devo vivere ancora Però Ok Oh che due coglioni Questa roba qui Mamma mia Brutta brutta Una cosa No io al palo Non ho fatto nulla Quindi di sicuro Non l'ho fatta Quella roba Allì che intendo Dovevo parlare Con Melina Forse Non lo so Bella Questa Questo pezzo Di 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 Che mi è rimasto Incastrato Nella testa Apri il palo Oh no Aspetta Facendo alto Anche perché Ho 140.000 rune In stallo Lì Quindi Preferirei andare A recuperarle Prima di fare Queste trovo Eh ti pare Vabbè Ma come c'è Di Vollaio Cioè perché Con un salto Non so Ah Di là Ok Opla Dio Cristo Dio Cristo Dio Ma avete rotto il cazzo Mani di merda Sarite Dalla mia vita Ok E la precettrice È morta Spero una volta per tutte Che mi ha rotto proprio i coglioni Questa stronza Ah veramente ragazzi Questi nemici li odio Risate a creva pelle Ah dio Spero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Parkour, ripeto. A parte che abbiamo fatto un sacco di parkour oggi, tra l'altro. Il parkour è sempre più assurdo. Sta diventando, tra l'altro. Oh no. Oh, Gesù, santo. Vi prego, no. Un'altra boss, una boss fight pure qua. Oh, santo Dio. Posso ovunque. Aiuto. Ancora questo signorino intrattenga. Posso stare un attimo zitto dopo quattro ore che parlo? Alla cosa? Oh no. 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 Mi sembrava tutto un altro luogo Pensavo fosse tipo la neve del mondo Cioè Ho detto ma che cazzo è Siamo entrati in un altro dungeon Me l'ho dimenticato effettivamente Che l'obiettivo era raggiungere la cima di questa torre Effettivamente Vabbè Adesso non devi rompere i coglioni Comunque alla gente che spoiler Anche perché anche tu hai le tue colpe E lo sai benissimo a cosa mi riferisco Non qui Non qui su Twitch Ma è in privato Quindi non sei nessuno per fare la predica agli altri E soprattutto solo io posso fare la predica Perché io li ricevo Chi è? Cosa sei? Ma E soprattutto è il mio canale Quindi solo io posso ammonire le persone E non perché solo io ne ho il diritto Ma perché riguardano cose mie Non fate i paladini della giustizia Ehm 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 Grazie. 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 Nikocado o Avocado? Bello Nikocado o Avocado, bello. Come combatte è orribile, molto carino giuro, si gonfia e diventa una mongolfiera rotolante, è fastidiosissimo, veramente fastidiosissimo, mamma mia, tremendo. Tipo Smug, se avesse avuto la grazia di Ornstein sarebbe diventato quello, con lo stocco. Si metteva lì a fare le cose. Ma io adesso mi chiedo, cosa otterremo qua sopra? Perché la runa maggiore di... come si chiama? Di Rennala, l'abbiamo già, quindi cosa otterremo qua sopra? Avevano alcune domenze con un certo altro boss affrontato oggi. Ah sì, certo. Sì, beh, è chiaro, era un altro della fiamma nera, certo. Non è... ovviamente non l'ho puntualizzato perché ero... Nobile Sacriderma. Il grasso sottoputano la rende soffice e imbottita, indossata dai nobili Sacriderma noti per i loro paramenti a sette facce. Potenza e l'incantesimo dà la nobile presenza. I nobili sono gli apostoli primigeni. O primigeni, non lo so. Che sembrano aver assimilato una fisiologia inumana in modo non dissimile dal crogiolo, il primo albero madre. Sì, Smoke pesava molto di più di quel rollo lì. Io giuro, gli odio questi messaggi, li odio profondamente. Comunque il fatto che... no, aspetta un secondo, forse è meglio se mi siedo. Il fatto che ci sia una grazia in cima... Non so se c'è sempre stata, però è il dubbio che mi siedo. No, forse c'è sempre stata, però effettivamente non mi ricordo. Vabbè, io mi siedo. Non si sa mai. Ok. E che comunque questa può essere tranquillamente anche un'arena. Quindi... Marchio maledetto. Cimelio dell'astrologa. Allora, questa credo menterà qualche caratteristica. All'intelligenza, infatti mancava quello. La giovane astrologa passeggiava con lo sguardo rivolto al cielo notturno. Ogni passo del suo lungo viaggio l'aveva avvicinata alle stelle, finché non incontrò la luna piena. O allora che l'astrologa divenna di Ginochere, Nala. Chiaro. E il marchio maledetto, invece? Che è un oggetto, tra l'altro, da un nome abbastanza interessante. Marchio maledetto inciso sulle antiche carni di Ranni, la principessa lunare. Noto anche come lo squarcio semicircolare del millepiedi. Questo marchio maledetto fu inciso alla morte del primo semidio e doveva avere forma circolare. Poiché morirono due semidei contemporaneamente, tuttavia il marchio si spezzò in due semicerchi. Ranni fu la prima dei semidei a morire nel corpo, mentre il principe della morte morì solo nell'anima. Il principe della morte. Lo avevamo già sentito, il principe della morte, ma chi era il principe della morte? Non me lo ricordo. Ranni fu la prima dei semidei a morire nel corpo. Chiaro. E che poi è stata reincarnata, diciamo così, in una bambola. Nito? No, non era lui il principe della morte. Quindi non era davvero grosso, ma in un momento in un momento si è messo davvero... Sì, sì, ma come anche Smokes, secondo me non era così tanto grosso. Era anche l'armatura che garantiva. Cioè, ragazzi. Per usare uno stocco non può essere così grosso. Non per dire, ma... Puoi. Beh Ranni io direi che Interessa tornare da te Bambola letteralmente Non era un modo per Non è un modo per rimorchiarla letteralmente una bambola Quindi Oddio tremendo Oh questo in realtà non è nemmeno troppo male Sai si abbina in un certo senso Sapete che quasi quasi me lo tengo In un certo senso si abbina Vero? Oh Poi perché mai dovrebbe esserci Una grazia qui dentro Spacchiamoli casa mentre non c'è Vero ragazzi Voi che ne dite? Si abbina secondo voi? Secondo me si Non è troppo male Oddio magari quella testa lì sopra è inquietante però Beh Non la voglio quella testa però Ci dipenso Forse A questo no direi Paura che sia la bambola Vuol dire Questa la baciano verde Centipede di one punch Perché ogni volta Si cambiava faccia È vero Capito cosa ti riferisci Guarda io lo terrei Se non fosse che inquietante Perché tra l'altro C'è una faccia anche dietro Non l'avevo notato No è troppo inquietante No no Ok Torniamo Via No Torniamo Io questo lo metterei quasi Però Se non fosse verde Guarda sarei molto tentato Dal metterlo però No Dispiace Niente Purtroppo questo è il modello guardiano È l'unico che c'ha zecca Perché L'unico che non mi fa vomitare Più alto Non sa perché mettere una grazia là dentro Che senso ha Quale sono il 40 Andiamo avanti ancora un po' Andiamo un po' se troviamo gli altri Se troviamo Blade Se troviamo Vabbè il tizio lì Il gigante Sappiamo dove trovarlo comunque Bisogna vedere se troviamo Blade Perché Blade è quello più Anche l'ostrego In realtà sappiamo dove trovarlo Ma sto solo Blade Che non ho idea di dove trovare Le rune anche se ce le torniamo Non fa niente Nel senso Non ne faccio nulla Cioè nel senso Non ne faccio nulla Non le considero a rischio Spero tra l'altro Che in queste rovine Che ci sono qui Che però non sono indicate Sulla mappa Quindi in teoria Dorei stare tranquillo Non ci siamo scantinato Ma non penso Perché appunto Non sono indicate Sulla mappa Quindi Ti ho già inviato La mappa Di due sotterranei Così vedi due Che hai mancato Va bene Morto Godo Ah Tra l'altro Ah ok È chiaro What What Posso scambiare È un pantoccio What Questa vergine delle dita Non ha mai incontrato Un senza luce da guidare Impiega magia curativa E vasi d'acqua santa Ma non è certo Una guerriera rotta A mille battaglie Vergine senza luce Senza luce Senza vergine Nessuna guida Che li faccia incontrare Terolina Ma non è mica La tipa Che era presente Da Da Radan Perché ha la mano luminosa Non è che sia Non è che Non è che Lei Era uno dei servi Dranni Sostanzialmente Vasaio Quest'uomo Ambieva a diventare Le viscere Di un vaso vivente Esperto Conoscitore di vasi Sa lanciarne Con perizia Una gran varietà Una volta Il vaso guerriero Si rivolse all'uomo Senza nome Con queste parole Non sei ancora pronto A unirti A guerriere all'interno No Devi impegnarti di più Migliora te stesso Un giorno tornerò A prenderti Ah Stai a scattare i bevi Raga Non ce l'ho là Acqua Oddio Non andrò a prendere Ho capito Devo fare il pieno A presto Una volta Un'altra A presto Un'altra Raga cosa vuol dire bere due volte Cioè devo fare due sorsi Toi faccio due sorsi un attimo Faccio due sorsi Mentre vi guardo Negli occhi Intenti ora Mi piace Oddio Godo molto anch'io Godo molto anch'io Ok Allora Quindi Se Luvis è morto Che era un Cioè non capisco se lui era un fantoccio Perché interagendoli c'è scritto FANTOCCIO Quindi anche lui era un fantoccio Ancora era una bambola E questo è quello che mi sta suggerendo Il Il robo Il gioco Di qua In teoria non c'è nulla Blade non so dove cercarlo Sinceramente Non so dove cercare Blade Sinceramente Vabbè Per ora andiamo a vedere di là Se c'è magari Vediamo un po' Magari è lì Semplicemente Lì dietro Ad attendere Ok È solo l'host Io ti ho dato un consiglio Dove? Non ricordo Ah giusto No ok Ho capito cosa intendi È vero è vero È vero è vero Sì devo controllare Il palo Che si chiamano Grazie Allora La grazia è brava Corretto quasi all'istante Bravissimo È meraviglia di quanto siete veloci a scrivere Io non sono così veloce a scrivere Almeno Questa è la mia impressione Accelera il tempo Nuovo livello Ampolle Marisa incatemi Scela balsamo Ordina forse Le lune maggiori Ceneri di guerra Altra vestiario Oh Oddio no Quanto Dio Orrenda La telefona è abbastanza veloce Io sono più lento Da telefono Al contrario Eeeh Non c'è nulla C'è un problema bello grosso Scusa io Qual è il problema bello grosso Scusa io Qual è il problema bello grosso Te lo dico io Aspetta eh Te lo dico io adesso Qual è il problema bello grosso Ah Dio mio No ho sbagliato Poi perché guglia Devo andare nella camera Dato la spada di Nocron a ranni Certo che l'ho data E se no perché se n'è data E perché si è sbloccato La tuve Certo che l'ho data la spada No qui magari è qui Dio Cristo Non c'è niente C'è nulla di nulla Vedete quasi quasi Facciamo un piccolo cambio di armatura Dovresti poter parlare con la bambola alfalogra Grazie Eh beh Insomma Non lo fa Quindi Direi che Però quello poco prima della paludia Quale paludia Ce n'è tante di paludia Eh questo qua va un po' a cagare eh Come pezzo di copaggiamento quindi Un momento Allora Però in teoria con questo dovrei avere più possibilità di mettere armature carine Carino però questo Non è niente male Non mi dispiace però C'è qualcosa che non mi convince comunque Madonna santa Ma è questo il Eh no mi sa che No si dovrebbe essere Sì 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 ok Questa è l'armatura Quella di marcia e scienza Vediamo Poco poco prima Eh questo Belle queste quest Per niente Non per niente Non intuitive Pippito Ah C***o Quindi Non dice niente Non dice niente Oh Ok Scusa Scusa No è che Non so Gioco una merda Non ho fatto niente Non ho fatto niente Non ho fatto niente Non ho fatto niente come candidato a succedere la Queen Marica per diventare il nuovo di dottore della nuova age che è quando ho ricevuto blithe nella forma di un vassale per un imperio ma non avvicinare ai due fangenti ho scoperto la runa di morte scoperto la mia propria imperio e lo scoperto non sarei controllato da quella cosa i due fangenti e io sono stati scoperto e le scoperte sono i loro assassini anche quando ho scoperto le due fangenti blithe è stato mio amico amico mentre era creato un vassale per un arian era una scoperta colosale sulle due fangenti blithe e eg. both non sarei disposti a dare molto a me ... Mi lasciato scegliere troppo. Lassi ci hai sentito. Lassi. Mi lasciato scegliere... Mi lasciato scegliere... Lassi ci hai sentito... Cioè io veramente ma... Cosa vorranno mai dire queste cose? Io non le capirò. Questo ascensore dici? Quello per andare sotto. Dove? Ah, ok. Beh raga però... Queste cose non le si possono capire ragazzi. Cioè... Ma è quello che dà fastidio di queste robe qua. E che non le posso capire. Cioè... Io... Odio mancare le cose. Però come faccio... A prenderle queste robe... Se non si capiscono? E questo è un problema già da Dark Souls 3. Oi oi. Tu sei l'ultimo. Dio i due figli. Dio i tuoi figli. Dio i tuoi come... Drenfa. Ma di preciso no? Questo finale qui... Dalla quale mi sto avvicinando... Perché ho capito che questo... È avvicinato ad un altro finale ormai. Ma... Lo voglio davvero. Eh... Perché... Quello è il punto che... Che cazzo me ne frega di Rani la strega onestamente. Beh... Potrò scegliere. Andiamo. Non rispondetemi eh. È una domanda vittorica tra me e me. Bene. Bene. Non è vero Blight questa. L'ho capito. Non ricordo la descrizione della maschera. Comunque non c'era bisogno di dirmi che fosse... Che non fosse il vero Blight. Nel senso che... Cioè. Nel senso... L'ho capito. Vabbè. Non c'era bisogno comunque di dire. Posso aver credito se fosse stato il vero Blight. Mi sto su cazzo Blight ragazzi. Lo posso dire? Gentilmente. In modo molto candido. Il fatto che mi spacca il culo lui eh. Perché... Per mi curare ogni singolo attacco non è molto gentile quindi... Vabbè. Ok. Che cos'è sto moveset unico? Dio Cristo. Datemi a me un'arma con un moveset del genere. Ci credo che muoio ma vaffanculo vai. Vabbè. Non è quello che essendo cazzo mi aveva fatto il culo con lo sguardo. Ma cos'è poi sta roba? Cioè ma è OP. Ma Cristo Santo. Vabbè. Io vi giuro ragazzi. C'era gente che si osava lamentarsi della quest di Sigurd in Dark Souls 1. Ma come fanno a lamentarsi della quest di Sigurd in Dark Souls 1? Sì ma sono ancora lì le rune. Non ce ne frega un cazzo. Tanto due o tre livelli in più non fanno la differenza. Ormai. No ho sbagliato vabbè. Vabbè. Scudo non alzate. Vabbè credo farci a schifo anche questa armatura comunque sinceramente. Penso che buona parte della difesa dipende. Non lo so in realtà la difesa quanto è influente con l'armatura. Vabbè nel dubbio rimettiamoci l'altra che sennò casino. Ma non è un boss ragazzi. Questo qua è soltanto un invasore Non è in PC, non è un boss Infatti per quello fa cagare Che di boss effettivamente brutti Ma boss boss Abbiamo visti pochi quindi Abbastanza influente Quindi vuol dire che il fashion source Non può esistere Vabbè I want comment on this Possiamo s'immaginare Le povere build leggeri in questo gioco Quanto devono soffrire Vabbè Ah bene incastrato Dai Dai Diversantissimo eh Hyper armor Un botto di danni Dagli Non male L'unica cosa buona è che gli puoi fare il backstab Ma in Elder Ring è abbastanza difficile fare il backstab Bene amici Operato e incollato da Guts Guarda Se Guts è così io non lo voglio più legger Berser Posso riprendere almeno le mie rune Per piacere Guarda che toglie vita tra l'altro costantemente per qualche motivo ignoto Cioè questa cosa è senza parole Va bene Non posso tankare Non posso tankare un cazzo Va bene Interessante Interessante Ah Interessante Ah Dio Già mi da il cazzo che devo farmi dire Che cosa devo fare per andare avanti nel gioco Praticamente Poi Devo pure affrontare roba del genere per andare avanti Spiriti non li posso evocare Troppo Avrei già evocati ti pare Vabbè Guarda non si stanna con niente Non c'è Non Vabbè Manco i boss sono così Va bene E praticamente ogni mossa che ha Eeeh Va bene Ogni mossa che ha è una weapon art Eh Sicura pure Vabbè Una bella ciaggata Al volo Eccoci qua Ok Cioè Non posso fare un cazzo Eh Muoio per le fiamme Va bene Certo che se il gioco con questo voleva quasi voleva forse convincermi a non fare questo finale O a non fare questa quest in generale Quel che cazzo è Di sicuro c'è riuscito Posso strappare la testa di quella bambola per piacere La faccio più Perché non puoi fare un finale veramente dead carbato in questi giochi per una volta Dove fai veramente il cazzo che ti pare Eccolo là Ciaggatina al volo Eccoci qui Morto Eccoci qua Bella mangiatina Via Snack Fat E' anche un po' di danni da bruciatura Perché Voglio dire in fondo ci sta No C'è un po' di danni da Ora posso finalmente stando prima di loro, questo è il saluto, mio amico, Tell Blythe e Eegy, io l'ho amato. Ho capito qual è, minchia, non lo ricordo ancora, il meraviglio di me stesso in realtà, aula scolastica, era questo, no? No, forse no, 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 si chiama biblioteca, tipo, forza, non è che a livello di, eh, infatti era qui. Sì ragazzi, ogni volta, se io mi devo ridurre a fare attacchi in salto a ripetizione vuol dire che è uno scontro di merda di solito, quindi... Vabbè, gli attacchi in salto fortunatamente hanno questo vantaggio, allora adesso dov'era quello scrigno lì? Ah, eccolo qua. Anello della luna nera, è un anello del giuramento immagino, vabbè, non è, guarda che mi sono andato spontaneamente a sceglierlo qua ma non c'è. Bello, bello. Anello del gelido vuoto, ma tra l'altro è, oh, ha perduto la sua perché, sfreschezza ora è come un guscio vuoto, non dà segni di vita. Una plumba è a luna piena, simbolo di un gelido vuoto, l'anello è stato affidato alla principessa Rani per farne dono al suo consorte. Rani è un'Empiria, che colui che l'ha impalmerata era il titolo di Lord. All'interno è inciso un monito. Chiunque tu sia, non sottrare l'anello a questo luogo, poiché la solitudine che alligna la notte, oltre la notte, è mia soltanto. Ok. Continuo a non capire un cazzo, capisco metà delle parole che dicono, sarò molto onesto. Che sono super, sempre super così. Vabbè, comunque, boh, vabbè, sinceramente ragazzi, tornando un attimo un po' più lucidi, oh dio, mi dà veramente fastidio quando sono così tanto precise le quest, cioè, porca Eva. Chissà quanta roba ancora abbiamo mancato di quest, perché, per dire, all'alto piano, lì, agli urne non ci siamo ancora arrivati, quindi secondo me abbiamo mancato ancora anche quella roba lì, cioè. Ancora ancora, cioè, boh, sono una dottura di coglioni le quest così tanto facilmente mancabili. Perché sto gioco dura un botto di tempo, cioè, dio santo. Cioè, metti uno che voleva fare una roba, cioè, come fai a saperlo, se sei lì, nemmeno a dire, tipo, che c'è l'indizio, tipo, che ne so, il globo dell'occhio nero, no? Che ti dice, ah, è il momento di fare i cazzi, cioè, no, non ti dice niente. Se almeno mi avvicinassi lì e mi dicesse, ah, senti qualcosa nel cazzo. Sto schippando cazzini che non servono a nulla, in teoria, no? Eh, in teoria sì. Sono le solite cazzini semplicemente per arrivare nell'area. Quindi. Sono tornato. Beh, avessero almeno, boh, sta cosa. Poi io odio non sapere. E io odio le cose missabili. Tantissimo. Infatti una delle cose che più non mi piace è che è invecchiata male, secondo me, di... Dei vecchi Final Fantasy, per dire una, sono proprio quello. Le migliaia di cose missabili. Io le odio le cose missabili, ragazzi. Cioè, proprio le odio profondamente. Il momento di fare i cazzi. Piangerò quando farei quella quest. E... E... E quindi niente, cioè... Mi dà fastidio, mi dà un fastidio quelle robe. Poi dipende dal gioco, per carità. Un gioco da 70 ore e le robe missabili mi danno il cazzo. Infatti, raga, io gioco sempre in persona con la caga addosso per ogni cosa che faccio. Non mi hanno sbagliato a dare per scontato che ti resti seduto a quella grazia. Ma in realtà il fatto è che credo di essermi pure seduto. No, non è vero. Mi ci sono teletrasportato. Quindi sì, no. Ok, è vero. Confermo, assolutamente. Vabbè. Io ti ringrazio comunque per l'aiuto con la quest. È brutto doversi far aiutare così. Perché mi dà fastidio essere aiutati per queste cose qua. Perché... Cioè, non le sento per nulla mie. Non le sento per nulla così. Almeno nella prima run, ovviamente, intendo. Però... È così. Quale persona deve ancora giocare? È il quarto. È un po' di roba, in realtà. Altare del chiaro di luna. Il quarto, vabbè, i primi due, ovviamente. È vabbè, tutti gli altri concerti. Di dancing. Fa arena. Micchia. Ma scusami, eh. Ma praticamente questa... In questa... Per questa quest qui... Cioè, serve tutto. Scusa, ma se non fai questa quest non esplori diverse aree, cioè... Ma quel cazzo? Vabbè. Ok. Comunque... Vabbè. Se non è missabile, ci sta. Perché effettivamente, alla fine, l'abbiamo visto. Non era davvero missabile. Però... Infatti, comunque, è difficile da intuire. Però se non è missabile, ancora ci sta. Vabbè. E... Ok. Comunque... Vabbè. Ci fermiamo qua. Andrò in modo, perché... Sicuramente non abbiamo tempo di fare il drago che c'è qui o qualsiasi altra cosa. Anzi. Credo me li farò in privato. Ditemi se magari c'è content importante, ma non penso. Quindi credo proprio farò in privato e basta. E... Quella zona c'è lì solo con la quest. Quella sopra qua. Questa zona c'è... Eh sì, sì, sì. Lo so, lo so. Infatti, lo so. Non ci si poteva arrivare in nessun altro modo. Il viola anello quindi è missabile. Eh, ho capito, ma... Vabbè. Credo ci sia solo un boss in un portale. Un pelo unico. Boh, vabbè. Nel caso ve lo registro. Ma vediamo, vediamo, ragazzi. Tanto vediamo. Tanto se domani mi sveglio e voglio di giocare a Genshin, gioco a Genshin. Semplice. Vedremo, vedremo. E... Magari esploro ed evito di fare i boss. Drago, vabbè, è il drago. Non so se ha delle robe uniche, però. In teoria è solo un drago. Vabbè, in teoria è sempre lo stesso drago, tra l'altro. Vabbè, ragazzi. No, aspetta. Devo uscire bene. Mi sono poi il gioco mi rompo. Ah, sì, sì, sì. È vero. È unico. L'unico boss che c'è lì. Vabbè, vedremo. Nel lago di putrefazione, quindi, c'è quel boss. Oppure nell'altra parte. Vabbè, la vedo la mappa della Galera Eterna. Sì, 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 la vedo la mappa della Galera. E va bene. Quindi, ragazzi, che dire. Io vi ringrazio di essere passati. Anche oggi è stata, alla fine, una live più chill. Mi ha triggerato molto. Mi ha fatto molto tiltare quella cosa lì della quest. Perché avevo paura di aver missato qualcosa. Ora, fortunatamente, non l'abbiamo più missata. Quindi, una parte dove sta lo spirito ancestrale. Non l'abbiamo più missata, quindi sono più tranquillo. Però, appunto, ripeto. Farmi aiutare è un po' brutto. Perché è un po' come barare, secondo me. E quindi mi dispiace fare queste robe. Vabbè, comunque. Alla prossima live. Credo si vada all'alto piano, ormai. All'alto piano di Altus. Penso un po' che il nome è intelligente. E dai, abbiamo fatto progressi importanti. Vediamola in positivo, questa live. Perché c'è stata roba figa. Alla prossima, ragazzi.